Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà tre mila capriole. Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà tre mila capriole. Allora, lo spettacolo che va in scena fra pochi attimi, è andato in scena la prima volta la bellezza di 17 anni fa, esattamente in Via Colletta, abbastanza qui vicino, il capannone mitico ormai di Via Colletta, e noi siamo stati sollecitate a fare questo spettacolo da un sacco di compagni, in conseguenza sapete benissimo della strage che era avvenuta qualche mese prima, esattamente in dicembre, intorno a questi giorni, il 12 di dicembre, e poi il 16 c'è stato il defenestramento famoso. Ora, la strage e il defenestramento. Bisogna che ricordi ai giovani, che forse non lo sanno, che in quei giorni, in un solo giorno, successe l'esplosione, accadde l'esplosione, la bellezza di quattro bombe, anzi tre bombe, una al Palazzo di Giustizia a Roma, una al Monumento del Minuto Ignoto, una alla Banca dell'Agricoltura e una bomba inesplosa trovata a un'altra banca, che anche lì sarebbe stato un disastro. Quella bomba fu fatta esplodere quasi subito e fu un grosso guaio, perché attraverso come era stata costruita la bomba si potevano rintracciare gli esecutori, invece qualcuno ha depistato, sapete che la Polizia, come uno dei propri talenti, è quello di depistare, sono bravissimi, nessuno depista, depistare e insabbiare sono le loro prerogative massime. Ad ogni modo, siamo stati a sollecitare a fare questo spettacolo, non avevamo molti elementi, abbiamo avuto la fortuna di poter ricevere l'inchiesta realizzata dal Pubblico Ministero, alcuni verbali fotocoppie e anche la nostra fortuna fu questa, che la Questura, seccata delle continue allusioni che si facevano al fatto che fossero stati nella Questura i responsabili della morte di quell'anarchico, di Pinelli, hanno a un certo punto querelato lotta continua, ma c'è stato il processo e il processo avveriva negli stessi giorni in cui noi si recitavano, quindi nel pomeriggio, a fine delle sedute, arrivavano gli avvocati che ci portavano le ultime trovate e ogni giorno ne succedevano a dire di Dio, perché questi poliziotti non si preparavano, non studiavano, arrivavano e andavano a braccio, si contraddicevano, dicevano, uno entrava il commissario dopo due minuti e questo diceva no, non è vero, non ha detto niente, non è mica cosa. Poi arrivava l'altro che, insomma facevano dei bordelli tremendi, per noi era una pacchia, anche perché questo faceva sì che nascevano delle informazioni completamente nuove e si può dire quotidiane, però era duro recitare ogni sera un copione quasi completamente diversificato, tanto che nel giro di due anni e mezzo noi cambiamo il testo e dovremmo ristamparlo per la bellezza di tre volte. Il testo che c'è in vendita, che magari qualcuno lo può acquistare, è il testo risultato di due anni e mezzo di varianti e variazioni. Una cosa che devo ricordarvi è che la Questura non era tanto felice del fatto che noi mettessimo in scena questo spettacolo, tanto che loro, oppure chi per loro, o degli amici intimi loro, il fatto sta che ce le facevano di tutti i colori. Prima di tutto noi ci preoccupavamo, quando entrava la gente a vedere lo spettacolo, la si palpava completamente, devo dire che c'erano proprio degli incaricati che passavano in rassegna tutto, ci trovavano anche pistole ogni tanto, qualcuno, stranamente erano tutti portavalori, dicevano di essere portavalori, il portavalore non aveva il valore ma la pistola si, se la portava. C'erano anche delle ragazze che ci aiutavano e devo dire che era molto divertente perché c'erano dei giovanotti che entravano, poi si facevano toccare, poi riuscivano e facevano, anche tre volte di seguito, era una delle cose. Ora, dicevo che ogni tanto succedevano dei guaci, ci hanno messo delle bombe, per fortuna erano fatte un po' in casa e sono esplose male, qualcuno fuori orario, qualcuno dopo che eravamo andati via tutti, insomma siamo stati anche fortunati. Ogni tanto però ci telefonavano dicendo che c'era una bomba, quando ci telefonavano che c'era la bomba non c'era mai, ma quando c'era la bomba non ci telefonavano mai, nessuno neanche quella telefonavano. Un altro loro metodo per bloccare il nostro lavoro era quello di denunciarci, ci hanno denunciato una cosa come 80 volte e quando giravamo per l'Italia ci portavano sotto processo, ma voglio dire che la tournée nostra era organizzata in conseguenza di tutte le sedute, i tribunali che ci chiamavano, i giudizi dovevamo arrivare. Ecco, vi voglio dire che erano 40 i processi che abbiamo dovuto sostenere, dico 40, più di 40, così che la tournée era tutta legata ai processi. Noi arrivamo per esempio a Trieste, poi il giorno dopo c'eravamo il processo, la sera prima si recitava, poi la sera dopo si recitava, poi si andava a Rovigo dove c'era un altro processo, poi dovevamo fare Catania perché il giorno dopo c'era il processo Catania. Era un girare da pazzi, tant'è vero che a un certo punto c'erano a dire i giudici che dice coordinatemi per favore, noi non possiamo continuare a questo. E sono stati gentili, qualcuno anche la sera durante il processo mentre mi interrogava dice poi mi dà un biglietto. Ecco, un altro metodo era quello di terrorizzarci, anche di farci delle cattiverie piuttosto pesanti, non so, pestaggio, oppure ci arrestavano o facevano anche cose di cui sapete sul giornale ultimamente è uscito, a parte la violenza franca, ma si è saputo che a parte l'organizzazione dei carabinieri, ma un altro, un generale dei carabinieri che si chiamava Palumbo aveva avuto ordine da un altro generale, era il comandante della piazza di Milano, di intervenire a ciò che noi non si continuasse a fare il lavoro, con metodi illegali, ora si sa benissimo come si fa illegalmente a sospendere una rappresentazione, i metodi legali normalmente erano proprio quelli appunto di portarci sotto un processo, di incriminarci, quegli altri erano un po' più fisici, insomma, ci è andata abbastanza bene che non siamo storpi. Un'altra cosa di cui ci preoccupavamo era il fatto di non essere incriminati troppo pesantemente, quindi lo spettacolo noi fingevamo che avvenissi in un altro luogo, sapete benissimo che durante il fascismo c'era la grossa trovata, quando c'era un passaggio scabroso, si faceva avvenire la situazione in Ungheria, si diceva ungherese, non so se c'era un personaggio che era un infame, era ungherese, così noi abbiamo fatto avvenire tutto in America, approfittando di un particolare, come sapete San Sedo, un anarchico famoso che era insieme a Sacco e Manzetti, che era stato buttato giù dalla finestra a New York nel 1920 e allora noi dicevamo che tutta l'azione avveniva in America e io venivo fuori e raccontavo quello che era avvenuto a San Sedo, San Sedo nel 1920 si trovava nella questura di New York, al ventesimo piano, a un certo punto è sceso, dice il verbale della polizia di New York che, perché sono bravi anche loro, hanno un cranio incredibile, a un certo punto dice in San Sedo, per nostri discorsi un pochettino provocatori, si inalberava, classico degli anarchici, si inalbero, e urlando no, a questo punto non ci sto, se ne uscì dalla finestra, bisogna stare attenti, sono imprevedibili, poi il verbale dice, l'anarchico, attento che bello, precipitava velocissimo, a differenza dei normali precipitanti che svolazzano, ondeggiano, prendono tempo, no questo è come un pazzo andava giù, e poi una cosa incredibile dice, andava giù e remava anche, che dice a un certo punto è straordinario questo, dunque raggiunto il suolo, il suolo si schiantava scentemente, o scentemente si scantava, apposta l'ha fatto, poteva planare, invece no, andava proprio giù, mai fidarsi di anarchico, allora noi raccontavamo, dicevamo, noi vogliamo raccontare questa storia, ma siccome avreste dei disagi, quando noi parliamo per esempio delle cariche nella polizia americana, che sono tutto diverse dalle nostre, poi i riti, eccetera, eccetera, poi il fatto di parlare di New York, poi di Washington, delle città varie, allora noi facciamo una cosa, trasformiamo tutto, quando sentite Washington, ricordatevi che è Milano, quando sentite, pardon, quando è Washington è Roma, quando è New York è Milano, poi i vari commissari come ispettore, eccetera, eccetera, questo per aiutarvi, così noi eravamo tranquilli, diceva, nella nostra ingenuità naturalmente, ma ha funzionato, perché dicevamo, voglio vedere se vengono a denunciarci e dire che noi raccontiamo di Pinelli, perché quando vengono a dirci, voi state parlando di Pinelli? No, noi stiamo parlando dell'americano, davvero che quello è disceso, invece Pinelli è rimasto su, voglio dire che è sceso per proprio conto, e l'altro invece l'hanno buttato, era loro che dovevano dire, no, no, è uguale e preciso, l'abbiamo buttato anche noi. Un altro personaggio che devo presentarvi, a parte quello che è un altro personaggio importante, lo conoscete, era allora, era il presidente italiano, il grande presidente. Era Saragat, 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 quello è il ritratto di Saragat, è un po' lontano, è perfetto, un po' rubizzo con il nasilo, sapete che era uno che… Quando in questura buttarono l'anarchico e arrestarono anche Valpreda, mandò un telegramma di felicitazione, diceva, avete fatto svelto a scoprire il colpevole? Appunto, era ciucco proprio, proprio uno, ne abbiamo avuti tanti, ma questo qui è uno dei migliori, batte quasi leone questo qui. Ad ogni modo, vi dicevo dei questori, vi devo presentarvi, sempre per i giovani che non sanno, c'erano dei gerghi, si diceva per esempio Guida, Guida lo chiamavano il questore bagnino, oppure il bagnino penale, perché? Perché lui era stato al confino, ma come? direttore delle isole per carcerati, meglio dire per i confinati italiani, gli antifascisti, e quando Pertini lo incontrò a Milano, dopo anni e anni, questo spudorato, sperando che non lo si ricordasse, gli allungò la mano e Pertini disse, cosa devo fare? Sputarli sopra o mangiarla? Morderla, disse anzi. Mi ricordo che si chiamava appunto il direttore dei bagnini penali, o anche di ustica ventotene, appunto, perché erano le sue isole. Poi c'è un altro che si chiamava, era il calabrese, che si chiamava giro collo dolce vita o defenestra, proprio più propriamente. Devo ricordarvi che si riprese il processo, fu interrotto e ci fu un processo proprio contro la questura, aperto, non lo si fece mai perché fu ammazzato calabrese e qualcuno dice che la tecnica con cui è stato ammazzato era calastica dei killer americani, di una certa polizia e che sicuramente, infatti non si è fatto più il processo, grazie all'ammazzamento di calabrese si è sotterrato tutto e all'italiana, l'antica italiana mafiosa, via, si è sotterrato. Credo di avervi detto tutto o quasi, sì, è vero, ho detto tutto, non so se possiamo andare. Sì, sei tranquillo appunto, l'ha detto, sì, 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 ho detto tutto, possiamo cominciare, via. Ah, ma non è la prima volta che ti travesti allora, qui dice che ti sei spacciato due volte per chirurgo, una volta per capitano dei bersaglieri, tre volte vescovo, una volta ingegnere navale, in tutto sei stato arrestato, vediamo un po', due, tre, cinque, uno, due, undici volte in tutto e questa è la dodicesima. Sì, dodici, dodici arresti, ma le faccio notare che non sono mai stato condannato, la fedina è pulita io. Beh, non so con che razza di gabole tu ce l'abbia fatto a scantonare, ma ti assicuro che stavolta la fedina te la sporco io, poi giù la capisco commissario, una fedina immacolata da sporcare fa un po' gola a tutti. Sì, fai lo spiritoso, qui la denuncia dice che ti sei fatto passare per psichiatra, professore, già libero, docente all'università di Padova, lo sai che per millantato credito c'è la galera? Sì, millantato credito ho messo in piedi da uno sano, ma io sono matto, matto patentato, guardi il libretto clinico, sono stato ricoverato in sedici manicomi diversi, sedici volte, sempre per la stessa ragione, ho la mania di recitare dei personaggi, si chiama istrionomania, viene dal greco istrios che vuol dire attori, insomma ho l'obbio di recitare delle parti, sempre diverse, io sono per il teatro verità e ho bisogno che la mia compagnia di attori sia composta da gente vera che non sappia di recitare, d'altra parte non ho mezzi, non potrei neanche pagarli, ho chiesto qualche sovvenzione al ministero dello spettacolo, ma siccome non ho appoggi politici e non ho cognati, appunto, così ti fai sovvenzionare dai tuoi attori, gli tiri il collo, non ho mai tirato bidone nessuno io, ancora un po', si è fatto a pagare addirittura 200 mila lire per una visita, ammazza che carabinata, ma è la normale tariffa per uno che ha studiato per sedici anni la stessa materia, per uno psichiatra che si rispetta, appunto, ma tu quando mai hai studiato? Io per sedici anni ho studiato, in venti manicomi diversi, su migliaia di matti come me, giorno per giorno, anche di notte, perché io a differenza dei normali psichiatri, io la sera non ne andavo a casa, io dormivo con loro addirittura, magari di piedi con altri due, perché in ospedale mancano sempre i letti, in ogni modo si informi, vedrà se non gli ho fatto una diagnosi più che perfetta, quel poro psicopatico per il quale mi hanno denunciato, anche le 200 mila lire erano perfette, ma sono stato costretto per il suo bene, no, per il suo bene fa parte della terapia, ma certo, certo, se io non gli carabinavo 200 mila lire, lei crede che quel poverazzo e soprattutto la sua famiglia sarebbero rimasti soddisfatti, ma se io gli avessi chiesto le solite che sono 20 mila, avrebbero pensato, ma questo non è, questo chi è, non è neanche un professore, sarà uno appena laureato, un principiante, invece così come gli ho sparato 200, gli è mancato il fiato, hanno pensato, ma chi è questo, il padre eterno, sono andati via felici come una Pasqua, mi baciavano anche le mani, grazie professore, e piangevano di commozione, per la miseria come le sai raccontare bene, ma non sono frottole, anche Freud diceva sempre, la parcella salata è il miglior tocca sana, per l'ammalato, ma soprattutto per il medico, e ci credo, ad ogni modo dai un'occhiata qui alla tua carta di presentazione al tuo ricettario, se non sbaglio c'è scritto professore Antonio Rabbi, psichiatra, già libero docente all'università di Padova, avanti come me la conti adesso? Prima di tutto io professore lo sono davvero, professore di disegno, ornato, mano libera, alle scuole del sacco redentore, le serali, va bene, complimenti, ma qui dice psichiatra? Sì, ma scusi, dopo il punto, ha notato bene, no guardi bene, c'è, professore Antonio Rabbi, psichiatra, dopo il professore, punto, poi P maiuscolo di psichiatra, guardi, scusi se lo sa, non è mica millantare un credito dire io sono psichiatra, come dire, sono psicologo, erbivoro, artritico, onnivoro, ma scusi lei conosce sintassi, punteggiature della lingua italiana, no? Posso andare tranquillo? No, lo chiedevo soltanto così, lei conosce la sintassi, allora dovrebbe sapere che se uno scrive per esempio archeologo, è come se dicesse bergamasco, mica vuol dire che ha fatto gli studi, non si studia per diventare bergamaschi, uno nasce e dice, oh guarda un bergamasco, così, sì, 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 ma quel già libero docente all'università? Scusi, adesso è lei che millanta, cosa? Lei millanta, io millanto, a parte che qualcuno mangia le cicche e le lascia sul palcoscenico, guarda che Calvino me lo fa, deve essere il nostro appuntato lì, ha rovinato una ripresa, piccolo ritorno indietro, sì, allora no, sempre così, no, allora è lei che millanta, adesso è lei che millanta, e già prima dice, prima dice di conoscere la sintassi, la punteggiatura e poi salda fuori che non sa neanche leggere corretto, cosa non so? Ma non ho visto che c'è la virgola dopo il già. Eh sì, c'è la virgola. Ha ragione, non ci avevo fatto caso. Non ci avevo fatto caso, lei col fatto che non ci fa caso ti sbatte in galera un innocente. Ma questo è proprio matto, cosa c'entra la virgola? Niente, niente, non c'entra niente, per uno che non conosce sintassi e punteggiatura non c'entra niente, che poi mi deve dire che il razzo di studi ha fatto a chi l'è, e chi l'ha promossa, lei mi lascia venire! Se dopo il già c'è la virgola, tutto in senso della frase, cambia di colpo, perché la virgola è la chiave di tutto, dopo la virgola dovete sempre prendere un lieve respiro, fiato, pausa interpretativa, poiché sempre la virgola impone diversa intenzionalità alla frase. Quindi dopo il già dovrebbe farsi sempre, non so, un mogugno, ironico, sfottente, una espressione sarcastica. Ecco la lettura corretta, per esempio, già, libero docente, virgola, padola, già, come dire, ma pianta di sfottere, pianta di raccontar frotto, le soltanto i fessi ci cascano. Ma così io sarei un fesso? No, no, lei è soltanto un po' sgrammaticato, ma io direi, potrei anche darle qualche lezione, potremmo cominciare subito, le farei a un buon prezzo, dunque, mi dica i pronomi di tempo luogo. La smetta di sfottere! Comincio a credere che lei sia davvero uno con la mania di recitare, ma sta recitando perfino di essere matto, invece è più sano di me, scommetto! Certo, 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 il vostro è un mestiere che porta parecchie alterazioni psicofisiche. Mi mosse un attimo l'occhio. Ma insomma, vogliamo andare avanti con sto verbale? Senz'altro, se permette scrivo io a macchina, sono datilografico patentato, 45 battute al secondo. Sì, la fermo, le faccio mettere le manette! Non può. Come non posso? Ho la camicia di forza o niente. Io sono matto e articolo 122 del codice penale, chi investe di pubblico ufficiale, chi investe di pubblico ufficiale, impone mezzi di contenzione non psichetici o comunque non psichiatrici, a meno matto, così da provocare crisi del suo male, incorre il reato, punibile da 5 a 15 anni più la perdi del posto, grado e pensione. Ah, vedo che te ne intendi anche di legge. Sulla legge? Tutto sulla legge. Sono vent'anni che studio legge. Ma che cos'hai? 300 anni? Dove l'hai studiata a legge? In manicomio. Sapessi come si studia bene là dentro? C'era, ma una calma, c'era un cancelliero, un paranoico che mi dava lezione, un genio, tutto, so, guardi, codice giustiniano, federiciano, greco ortodosso, diritto civile, ecclesiastico, moderno, tutto. Mi interrovi e io rispondo. Ma non ho tempo, figurati, però non c'è nel tuo curriculum che tu abbia fatto il giudice, nemmeno l'avvocato. No, no, l'avvocato non lo farei mai, non mi piace difendere, è un'arte passiva. A me piace condannare, giudicare, perseguitare, reprimere. Sono uno dei vostri, commissario. Diamoci pure del tutto. Attento, matto, vacci piano a sfottere. Come non detto. Allora, ti sei già fatto passare qualche volta per giudice o no? No, no, non ho mai avuto l'occasione, con tutto che mi piacerebbe. Il giudice è il migliore dei personaggi, prima di tutto non vai quasi mai in pensione. Anzi, nello stesso momento in cui un uomo comune, un lavoratore qualsiasi, arrivato a una certa età, a 55-60 anni ormai, ha da sbatter via perché allento dei riflessi e combina casino. Invece no, per il giudice, a quell'età, comincia il bello della carriera. Per esempio, un operario alla catena di montaggio, anche alla trancia, arrivato ai 55-60, combina ritardi, incidenti, via, è da scartare, via, fuori! Così anche un minatore, un minatore a 55 anni, alla sinicosi, licenziato! Prima che scatti la pensione, è un impiegato in banca. Quando arriva una certa età, si perdono proprio, non si ricordano più il nome dei clienti, delle ditte, il tasso di sconto, lo sviluppo dell'Ibis, Davies, e tu puoi dire, via, 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 a casa! Sei vecchio, rincoglionito! Invece no, per il giudice è proprio l'opposto. Più sono vecchi e rincoglioniti, rincosvaniti, e più li eleggono a cariche superiori, determinanti, assoluti. Tu vedi dei vecchietti di cartone, tutti impaludati, con dei cordoni, delle mantelline di ermellino, che vengono avanti, tutti oscillanti, con dei tubi di capelli, con dei rigoni, tutti d'oro, che sembrano tante comparse nel fornaretto di Venezia, con delle facce da tappi della Val Gardena, con delle catenelle, con attaccati gli occhiali, due paio di occhiali, perché se no se ne dimenticano, non si ricordano più dove l'hanno lasciati. Vedi, questi personaggi hanno il potere di distruggere, di salvare una vita come e quando vogliono. Danno delle sentenze all'ergastro, come uno dicesse, ma domani forse piove, a te ti do 50 anni, a te te ne do 30, a te 20, perché mi sei simpatico. E dettono, legiferano, sentenziano, decretano e sono pure sacri, perché non dimentichiamo, e da noi c'è ancora il reato di vilipendio se uno parla male della magistratura. Da noi è nella rabbia saudita. Sì, 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 il giudice è il migliore di tutti i miei. Cosa non pagherei per poterlo recitare almeno una volta nella vita? Il giudice di Cassazione dell'Ordine Superiore. Silenzio, si accomodi, eccellenza, tutti in piedi, entro alla corte. Venga che l'accompagno io, attento che c'è un gradino, e ti dirò, oppa, eccellenza, o guardi, l'è cascato un osso, è suo? Impossibile, io non ne ho più. Allora, vogliamo piattarla con queste ciance? Mi hai stordito, su, seduto lì. Giù le mani o ti mordo. A chi mordi? A te, ti mordo il collo e anche il gluteo. E se reagisci pesante, articolo 122 bis, violenza e provocazione ai danni di menomato, psichico irresponsabile e indifeso. Da cinque a nove anni più la perde il posto, grave pensione. Per favore, pianta! Tu che cosa fai l'imparato? Sbattilo sulla soglia! Ma com'è? Ma com'è? Ma com'è? Ma com'è? Ma com'è? Morde! Morde! Ma com'è? Ti mordo! E ti avverto che ho pure la rabbia. Me la sono beccata da un cane rognoso, idrofo, schifoso, ma morsicato mezza chiappa. Per lui è morto. E io sono guarito. Sono guarito ma sono rimasto venenoso. Giù, non ci voleva pure il matto venenoso. Insomma, mi fai stendere sto verbale, sì o no? Dai, fai. E bravo che poi ti lascio andare te lo fai a me. Vuole l'osso del giudice? Mi tenga qui con lei. Comissario? Comissario? Mi tenga qui con lei nella polizia. Io sto bene nella polizia. Io nella polizia mi sento protetto. La gente di fuori è cattiva. La gente va intorno con le macchine, suonano i clacson, frenano col cigolio. Fanno gli sciopere, ci sono le portiere degli autobus, dei metro, che si chiudono, schiacciate. Mi tenga qui con lei. Io l'aiuto, l'aiuto a far parlare i sovversivi e anche gli indiziati. Sono bravissimo a fare le supposte di glicerina con la nitro. Basta, insomma, mi hai scocciato. Ancora. Mi tenga qui con lei. Comissario, mi tenga qui con lei, altrimenti io gli... Mi butto dalla finestra. Cosa? A che piano siamo? Terzo piano, quasi regolamentare. Mi butto. E quando sono di sotto, schiacciato, sfraccellato, sul celciato, che rantolo, perché se io sono duro a morire, rantolo moltissimo. Arrivano i giornalisti, mi chiedono chi è stato? Il Bertozzo, mi ha buttato di sotto. Mi butto. Per favore, piano, sfracca la finestra. Lasciatemi aprire e mi butto dalla trompa delle scale. Davvero? Seduto. Tu, chiudi la porta chiave. Togli la chiave. Porta la finestra, apri la finestra, butta la finestra. Sì, buttala. No! Metti la chiave nel cassetto. Chiudi il cassetto a chiave. Togli la chiave. Mettela in bocca e in goia. No. No, no. A me non mi ha mai preso nessuno per usare la mia chiave. Fuori. Piero, calma. Fattene. Calma, calma. E buttati pure dalle scale, fai come ti pare. Non puoi. Non puoi. Fuori io da matto. Non spinga. Non è la mia fermata. Finalmente. Signor commissario, devo ricordarle che c'è la riunione dal dottor Bellati e siamo già in ritardo di cinque minuti. Perché che ore sono per la miseria? Quel disgraziato mi ha fatto perdere la trebisonda. Andiamo, sbrina, ti apri. Chiudi. Signor Bertozzo, non si arrabbi, sono tornato a prendere i miei documenti perché se vado intorno e mi trovano senza i miei documenti da matto, poi mi prendono per uno sano e mi sbattono in galera. Ma non c'è nessuno. Io parlo come da solo, come vero? ho i miei documenti. Eccoli qua. La mia carta, il libretto clinico. Aspetta, aspetta un attimo, ci vuole una borsa, la borsa perfetta. Eccolo qua, una borsa a mettere dentro. E adesso, cos'è questo? La mia denuncia, guarda qua. In via del caso si faceva passare per il psichiatra. Ti perdono, ti perdono. Denuncio per un furto in una farmacia. 19 anni si è andato a rubare una farmacia. Hai fatto bene. Appropriazione in debito e in giuria. Hai fatto bene. Arrivò la libertà. Straccia tutto. Non mi dire che sono tutte denunce, che farò, che faccio. Cominciamo a dire la decreto di archiviazione, questo, morte degli anarchi. Istruttoria in corso, verbale degli interrogatori da questù di Roma, ballerino, inchiesta degli anarchici del gruppo Roma. Pronto? Qui è l'ufficio del dottor Bertozzo. Ti parla? Non mi spiace, ma se lei non mi dice il suo nome, io non posso passarle il dottor Bertozzo. Chi? Chi è lei? In persona, il commissario? Caro de Fenestra! No, 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 niente, niente, niente. Chi sono io? Scusa. Ehi! Bertozzo, il capo dei sovversivi qua, chiede chi sono. Indovinano la testa, sei incapace. No, non hai tempo, andiamo. Sono un collega, per un collega bisogna sempre aver tempo. Allora, tanto guarda, se non indovini io non te lo passo il Bertozzo. Chi sono? Senti nella voce, senti, eh? Anghiari? Sono Anghiari. Eh sì, hai ragione, sono Pietro Anghiari di Roma, sì, della politica. Eh sì? Dimmi, che cosa hai bisogno del Bertozzo? Dillo a me, poi, tutti questi documenti. Perché? Ah, ho capito. Mandano una specie di supervisore. La miseria, hai capito? Eh, evidentemente, certo, un giudice superiore. Evidentemente, a Roma, al Ministero, non sono rimasti soddisfatti delle motivazioni date per l'archiviazione del fatto dell'anarchico del FNC, che è scensa alla finestra. Eh sì, se no, ma scusa, sincero, ah, solo si dice. Mi pareva bene. Prima gli va che è una meraviglia e poi a un certo punto ci ripensano. Eh, scusa. No, no, ah 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 ah. Per chi, per cosa è? L'opinione pubblica che preme. Ah 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 il questore, sono rogne, ha detto di grattartene con cura, no adesso sono io che rido, perché piacerebbe anche a me che ci andasse di mezzo il tuo questore, di ventotene, glielo puoi anche dire, Bertozzo e anche Leggiali ci avrebbero piacere, da parte di tutte e due, come ci arrabbia, d'accordo che sei tanto amico del bagnino penale, ne parliamo a quattro occhi, figurati, quando ci incontriamo, ma sicuro, allora mi vuoi dire, sì, dettami che documenti dei bisogni, sì, poi li vado a cercare qui nell'archivio, allora la copia del decreto di archiviazione della morte dell'anarchico, poi le copie dei verbali della Polizia di Milano, di Roma, anche quello del Pubblico Ministero, d'accordo, te li procuro, credo che doviate prepararmi bene, in questore di ustiche ventotene, e dico, sei il capo, se il giudice che mandano da Roma è una carogna, come dicono, come dove lo dicono, a Roma, io vengo di lì, il fatto che li stanno preparando a suo scherzetto è in giro da quel dì, caro, certo che so come si chiama, il capo, oh per Dio, Marco Maria Malipiere, il giudice, Marco Maria Malipiere, non hai mai sentito nominare, lo sentirai nominare, è uno che si è fatto la bellezza di dieci anni di confino, chiedilo un po' al tuo capo dei bagnini se se lo ricorda, no, no, per carità, non chiedilo, gli prendo un colpo, poi noi non ci divertiamo più, no, sai che non hai spirito, ma proprio sei di un sud, ma d'accordo, figurati, ci salutiamo, no, no, aspetta, il Bertozzo ne ha detta una delle sue, è spiritoso, se non ti arrabbi te la dico, non ti arrabbi, te la dico, ha detto che dopo la visita del giudice superiore a te ti sbatteranno a Vibo Valencia Calabrese, nel sud, a Vibo Valencia Calabrese, dove il palazzo della questura è a un piano solo, è l'ufficio del commissario della politica, è nel seminterrato, gli anarchici, non potrai buttarli giù, dovrai tirarli su, ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Non ti è piaciuta? Vabbè sarà per un'altra volta, glielo dico, glielo dico contro, si spacca il mondo, si, 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 si dà un cazzotto a tutte e due, soprattutto a te, ricevuto, da parte del Bertozzo, amaro commissario della politica, oh mio Dio, il giudice da Roma arriva più prima che tu te l'aspetti, eccolo qua, è già partito, è in viaggio, è già arrivato, per Dio che occasione, un'occasione come questa, questa è del Bertozzo, speriamo che mi vada bene, perfetto, dunque, che occasione, mi vengono i breviti, poter dimostrare finalmente che sono all'altezza di recitare il personaggio di un giudice superiore che, la camminata, un giudice superiore senza camminata non vale niente, ecco qua, questa è artritica, un po' sciolta, artritica, a tre tempi, uno, due, no, no, questa è troppo artritica, del cancelliere, la, 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 ecco la, questa è, no, questa è troppo sgangherata, la scivolosa, la scivolosa con la salta becco, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, silenzio in piedi dentro la corte, un, due, tre, quattro, oppure la salta becco, questo è bellissimo, silenzio, no, no, io sto a perdere tempo per Dio, condotto, ecco i documenti, quello che mi dimenticavo, mi dimenticavo dei documenti, eccoli qua, eccoli, inchiesta di anarchici, verbale, istruttore in corso, decreto di archiviazione, sono a posto, sono a cavallo, eccoli qua, ce l'ho tutti, buongiorno, desidera a chi c'è? Ah, buongiorno, sono tornato a prendere i miei documenti, non si arrabbi, per favore, se è nervoso per i fatti suoi, non venga a scaricarli su di me, ma siete tutti nevrastenici in questa polizia, a cominciare da quel suo collega che va intorno a cercarla per spaccarle il muso, che va intorno a cercarla? Quelle giro collo dolce vita, non le ha ancora dato un pugno? Un pugno, a me, a lei e a quel suo collega, questo angario, anghiari, un commissario di Roma, della politica, chi lo sa, non lo so, e perché dovrebbe venirci a dare un pugno, questo tipo giro collo dolce vita? Fa finta di non ricordarselo, per via di un pernacchio, due pernacchi con la risata carogliana, ma che cosa sta dicendo, cos'è un altro dei suoi personaggi? Si accorgerà che il personaggio quando gli arriva il pugno nell'occhio e non gli do neanche torto, non gli posso dar torto, poi ero dirimpetato del quarto piano, ma chi? Ma cosa, al dirimpetaio, cosa va a dirvi che sarebbe tanto contento la sbattessero a Vibo Valenza Calabrese? Lui è il suo capo bagnino penale. Il nostro acquistore è quello che ci dirige e vi guida. Basta, senta, adesso lei mi ha già fatto perdere troppo tempo, per favore se ne vada, vattene! Per sempre. No, non si arrabbi, non si arrabbi, le voglio dare un consiglio proprio perché lei mi è simpatico. Quando incontrerà il dolce dell'impetato del quarto piano, lei come lo vede? Si abbassi, mi abbassi. Lei si abbassi, fuori. Lei si abbassi, fuori. Si abbassi! Per la miseria, quel disgraziato con la scusa di fare il matto si è fregato il mio cappotto, e tu rincuri quel matto, quello che stava qui prima, sì? Sta uscendo con il mio sopravvito, il cappello e forse anche la borsa, sì? Anche quella è mia, presto prima che se la bacia! Sì, dottore, il commissario è qui, si accomodi. Ma dove sono andato a finire le denunce? Dottor Bertozzo, c'è qui il commissario della politica che la desidera. Oh, carissimo! Proprio un secondo fa stavo parlando di te con un matto che mi diceva... Penso un po' che appena tu mi avessi incontrato mi avresti dato... Penso un po' che appena tu mi avessi incontrato, E quello chi è? Che vuole? Non so, dottore, è entrato con una tale boria, manco fosse il padre eterno. Dice che vuole parlare con lei, anche il conquistore. Ah, vuole parlare? Buonasera a desidera, mi hanno detto che cercava di me. Cosa si è fatto alla mano? Ah, niente, ma chi è lei, scusa? Ah, si massaggia così per darsi un contegno, una specie di ticche. Può darsi, mi ho chiesto con chi ho il piacere di... Una volta ho conosciuto un vescovo che si massaggiava come lei, un gesuita. Non sbaglio, o lei... Lei sbaglia di sicuro se cerca di insinuare chi abbia voluto alludere alla proverbiale ipocrisia dei gesuiti. Io tanto per cominciare, se non le spiace, ho studiato dei gesuiti con questo. Ha qualche cosa da obiettare, lei? No, veramente no. Però, però, quel vescovo di cui ne parlavo, quello era davvero un bugiardone tremendo. Da te vero che si massaggiava sempre le mani così così... Senta, ma lei... Lei dovrebbe andare da un buon psichiatra. Quel massaggiarsi in continuazione è sintomo di... Inefficienza, soprattutto di scaricamento, di situazione di angoscia e soprattutto di situazioni difficili con... Femminini, sessuali, ha difficoltà con le donne. Ma allora... Ecco la controprova. Irascibile. Di graverità, il suo non è un tic. Lei ha dato un pugno a qualcuno non più tardi di un quarto d'ora fa. Confesso. Ma che confesso? Piuttosto mi vuol dire che anch'io l'onore... E mi faccia il piacere di togliersi il cappello, fra l'altro. Ha ragione, scusi. Non lo tenevo in capo per Villania. Il fatto è che quella finestra è spalancata e io soffro di correnti d'aria, specchio alla nuca. Lei no? Si potrebbe chiudere? No, non si può, non si può. Come non detto. Permette che mi presenti. Sono il professor Marco Maria Malipiero. Malipiero, primo consigliere dell'ordine superiore. Un giudice? Già. Dopo la... C'è il già. Già primo... C'è la seconda? Già. Col mugugno ironico. Spotente. Dopo il già. Capisco. Cosa capisce? No, niente, niente. Chi l'ha avvertito del fatto che io sarei dovuto arrivare per la revisione dell'inchiesta e dell'archiviazione? No, veramente nessuno, ma ecco io... Attento, attento. E' una cosa che mi nervosisce moltissimo. E mi prende qui sul collo tutte le volte che qualcuno mi racconta una frotta. Allora, lo sapeva della mia venuta o no? Eh... Sì, 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 sì. Lo sapevamo, ma non la si aspettava così presto. E' proprio per questo che il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso di anticipare la mia venuta, così vi abbiamo preso in contropiede. Dispiaciuto? Ma no, si immagini. Oh, sì, 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 moltissimo. Prego, si accomodi. Mi vuole dare il cappello o preferisce tenerselo? No, no, tanto non è nemmeno mio. Come? Vuole che chiudiamo la finestra? No, no, piuttosto si preoccupi di andare a chiamare il suo Superiore, il Signor Questore. Vorrei che si cominciasse al più presto. Senz'altro. Ma non potremmo andare nel suo ufficio sopra? È molto più grande. Scusi, ma è in questo di ufficio che è avvenuto il fattaccio del... Sì, è qui. E allora preferisco essere sul luogo o... Come preferisce, signor giudice. Allora, prega il Signor Questore di venire più presto. Scusi, in mia presenza preferirei sempre se si parlasse ad alta voce. Mi scusi, signor giudice. Prega il Signor Questore di venire più presto, se può. Anche se non può. Sì, anche se non può. Signor sì. Ah, i verbali. Mi consenta un attimo. C'è il Bertozzo? Dove è andato? Ma dal Questore, che spia. Scusi, scusi, non ho capito una cosa, scusi. Questo Bertozzo di cui lei si preoccupa tanto, ha qualche cosa a che vedere con la revisione dell'archiviazione? Eh sì, no, lui ha proprio l'archivio con tutta la documentazione. Allora, scusi, perché procurarsi delle altre copie dal momento che ho tutto io qui con me? Eh? Perché procurarsi? Non serve. Non serve. Ma dico, commissario, che è sta storia che devo venire anche se non posso. Ha ragione, signor Questore, ma è che siccome... Sì, come un corno. Che cosa è diventato mio superiore tutto un tratto? L'avverto subito che questo suo modo insolente di comportarsi non mi piace affatto. Spesso verso i suoi colleghi, andiamo a arrivare addirittura ai pugni in faccia. Ha ragione, signor Questore. Però Alberto Osto non ha detto del pernacchio, del gioco di parole sul Calabrese e seminterrato. Ma che pernacchio calabrese? Andiamo, non facciamo i ragazzini, invece di starsele tranquillo, che abbiamo già tutti gli occhi addosso, con questi giornalisti che alludono, mettono in giro un sacco di notizie bastardi. Non smetto di volermi zittire, io parlo con... Oddio. E chi è quello? Un giornalista? No, 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 non si preoccupi, signor Questore. Non sono affatto un giornalista e non ci saranno pettegolezze di sorte. La ringrazio. Io capisco e condivido la sua preoccupazione. D'altra parte, io stesso, prima di lei, ho cercato di redarguire questo suo giovane collaboratore. Davvero? Questo giovane che ho notato di indole piuttosto insofferente, irrascibile, e che ora dai loro discorsi ho scoperto essere anche allergico al pernacchio calabrese, che è detto fra di noi, è uno dei più blandi, specie se confrontato con quello capuano o sorrentino. Lei se ne intende, vero? No, io pernacchio. No, 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 va bene. Senta, io le parlo come a un padre. Questo ragazzo ha bisogno di un buon psichiatra, lo porti da questo mio amico, il professor Antonio Rabbi, già libero docente. Faccia attenzione alla virgola dopo il già. Si può fare un bugugno ironico? Ma grazie, ma se mi permette, io? Senta, senz'altro permetto, si accomodi. Piuttosto il suo, si può dire, consigliere, l'avvertito... Non, non ho avuto il tempo, mi scusi. Il professor Marco Maria Malipiero, primo consigliere della Corte di Cassazione. No, per favore, per favore, lasci perdere quel primo consigliere, non ci tengo affatto. Dica uno dei primi è più che sufficiente. Come preferisce. Eccellenza, io non so proprio... Il signor giudice è qui per condurre una revisione d'inchiesta sul caso... Ah, certo, certo, l'aspettavamo. Vede, vede come è più sincero il suo superiore, lui gioca carte scoperte. Cioè, ma si tratta di altra generazione. Altra scuola, come si... Senta, lo devo dire subito, io appena ho sentito la sua voce, io mi sono sentito trasportare indietro nel tempo, la sua faccia, soprattutto, mi è così familiare. Lei per caso non è che è stato al confino? Al confino. Ma cosa dico? Quest'ora è al confino, quando male? Non lo lasciamo perdere. Vengiamo a noi! A noi! Ma basta con l'elucinazione. Vediamo i verbali. Secondo i verbali 26, 27 e 28 la sera della data, non ci interessa, un anarchico di professione, manovratore delle ferrovie, si trovava in queste stanze per essere interrogato circa la sua partecipazione o meno all'operazione dinamitarda alle banche che aveva causato la morte di ben 16 cittadini innocenti. E qui sono parole sue, il signor questore, riprese anche dal pubblico ministero, sussistevano sul suo conto dell'anarchico pesanti indizi. Ha detto così? Sì, ma in un primo tempo, signor giudice. Siamo appunto al primo tempo, poi ci sarà l'intervallo e riprendiamo così. Verso mezzanotte, l'anarchico è sempre lei, dottore, che parla, preso da raptus, con il pretesto di buttare una cicca dalla finestra, si è buttato con la medesima. Schiantandosi al suolo, preso da raptus, vediamo un po' cos'è il raptus, cos'è questo raptus. Dice il bandieu che il raptus è una forma esasperata di crisi suicida, angoscia suicida, dice, che afferra individui anche psichicamente sani se ne si è provocata un'ansia disperata, un'angoscia violenta. Allora, è giusto, vero? Allora, vediamo un po' chi che cosa avrà causato questa angoscia violenta, questa crisi disperata. Non ci resta che ricostruire l'azione. E qui tocca a lei entrare in scena, dottore. Sì, facciare il suo famoso ingresso. Scusi, quale famoso? Quello che ha determinato il raptus. No, 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 c'è un equivoco. Quell'ingresso non l'ho fatto io, ma un mio vice, un collaboratore. Io non c'ero. Ma che facciamo l'imitazione di Totò? A quest'ora, a quest'ora, in quest'ora non c'era. Siamo seri. Lasciamo correre, dottore. Non è bello, vede, scaricare le proprie responsabilità sui suoi sostituti o... Si riabiliti. E mi reciti il suo pomozzo. Ma signor giudice, è stato uno di quegli espedienti a cui si ricorre spesso lì della polizia così per far confessare l'indicazione. Ma chi l'ha chiamata a lei? Lei è maleducato. Lasci parlare il suo superiore, per favore. Si metta lì. Da questo momento non intervenga. Se non... No, troppo vicino alla finestra, per favore. Sollevi la mano. Quando vuole intervenire, mi chieda per favore se può. Chiaro? E lei, per favore, non mi nervosisca. Avevamo iniziato così bene. Veramente in simpatia, cordialità. Allora, si riabiliti e mi reciti il suo pomozzo. In prima persona... D'accordo, le cose sono andate più o meno così. L'anarchico era seduto proprio dove adesso è seduto lei. Ah sì? Il mio collaboratore... No. Io. Sono entrato con una certa irruenza. Bravo. E l'ho aggredito. Così mi piace. Mio caro manovratore, nonché sovversivo, hai finito di prendermi in giro. No, no, per Dio, lei non ha detto così male. Si attenga il testo originale, per favore, no? Non c'è censura, non c'è bisogno di scantonare. Allora, cosa ha detto? Devi piantarla di prendermi per il sedere. Oh! E si è limitato al sedere. Si glielo ho giunto. Va bene. E poi che cosa è giunto? Abbiamo le prove che le bombe alla stazione sei stato tu a metterle. Quali bombe? Sto parlando dell'attentato del 25. Ma no, per favore, lei deve rivolgersi a me come io fossi l'anarchico quella sera, uguale preciso, con la stessa irruenza. Allora, venga qui col dito, parta da qua. Il dito era qui. Allora, dica. Io dico, ma quali bombe? Non farò l'agnorri. Lo sai benissimo di che bombe parlo. Quelle che avete messo dei vagoni alla stazione centrale otto mesi fa. E gliel'ha messo pure nel naso il dito? Scusi, scusi, se permette, adesso io esco un attimo dal personaggio dell'anarchico e rientro in quello del giudice. Ma voi gli avevate davvero le prove certe, inconfutabili, che lui fosse il dinamitario delle ferrovie? No, ma come le stava spiegando il commissario prima, si trattava di uno di quei soliti inganni a cui si ricorre spesso noi della polizia per... Che lense! Però avevamo dei sospetti. Dato che l'indiziato era l'unico ferroviere anarchico di Milano, era facile argluire che lui... la paliziano. Direi ovvio. Quindi, se è stabilito che le bombe in ferrovia non può essere messe altre che un ferroviere, possiamo anche argluire di conseguenza che la bomba al palazzo di giustizia l'avrà messa un giudice. La bomba al monumento del milito ignoto, chi l'avrà messa? Un corazziere. E quelle alla banca dell'agricoltura l'avrà messa un banchiere con un agrario d'appoggio. Signori, io sono venuto apposta da Roma per condurre un'inchiesta seria. Non per giocare ai sillogismi cretini. Allora, continuiamo. Vediamo un po'. Qui dice, l'anarchico non sembrava affatto toccato dall'accusa, anzi sorrideva incredulo. Chi ha fatto questa dichiarazione? A lei l'ha fatta? Sorrideva incredulo. Come? Ma dico, vuole che metta verbale? Parli! Sì! Allora, dunque, poi dice incredulo. Ma qui si commenta anche, sono parole vostre ripetute anche dal giudice che ha archiviato l'inchiesta. Indubbiamente ha concorso nella sua crisi, nella crisi suicida, dell'anarchico naturalmente, la paura di perdere il posto di essere licenziato. Ma come? Ma prima è lì, tranquillo, che sorride, ironico, quasi sfottente, poi di colpo... Paura! Chi ha messo addosso questa paura? Chi è andato giù a piedi giunti a parlargli di licenziamento in tronco? No, le giudice, per quanto mi riguarda io... Per favore, per favore, per favore, non minimizziamo, è che? Siete due violinisti, forse voi due? Tutta la polizia di questo mondo è risaputo, va giù a piedi giunti durante gli interrogatori che fa paura e non capisco perché voi dovreste essere gli unici ad andarci con la vasellina. È nel vostro sacrosanto diritto che vi comportiate così, chiaro? E che scherziamo? Grazie, signor giudice. Prego. Però si sa, è anche pericoloso. Uno va a dire a un anarchico ferroviere, ah, per te si mette male. Caro mio, appena che i tuoi dirigenti, quelli delle ferrovie, verranno a sapere che tu sei un anarchico, ti sbattono in mezzo a una strada, sei licenziato, e l'anarchico, si abbatte. L'anarchico ci tiene moltissimo al suo posto di lavoro. In fondo gli anarchici sono dei piccoli borghesi attaccati alle loro piccole conquiste sociali, la tredicesima, un posto sicuro, la pensione, una vecchiaia serena. Nessuno più dell'anarchico ci tiene la propria vecchiaia. Sto parlando degli anarchici di adesso, quei pantofolai nostrani, niente a che vedere con quelli di una volta, quelli scacciati di terra in terra. Lei se ne intende gli scacciati? Quindi per concludere, voi abbattete moralmente l'anarchico, lui disperato, prende e si butta. Sì, sì, prego. Se permette, non per offenderla, non sarebbe venuto subito. Come? Per onestà, manca ancora il mio intervento. Ah, sì, scusi, mi scusi. Congratulazioni, è stato onesto. Mi ha scappato proprio. Come, mi ha scappato di essere onesto? No, la... Sì, sì, va bene, va bene. Allora, è successo che lei è uscita, poi è rientrata, dopo una breve pausa artistica, ha sparato la sua battuta. Via, avanti. Esca e rientri e dica la sua battuta. Si immagini che io sia sempre l'anarchico suddetto, seduto qua. Cioè, come quella volta, la stessa... Sì, sì, io sono l'interrogato. Quella, quella... Io chi sono? Scusi. Scusi, lo stagiamo, il commissario, la fa la sua parte. No, lo è normale. Quale, come prima? Faccio... L'entrata dura. Basta. Bene. Mi hanno telefonato adesso da Roma, una bella notizia per te. E chi è? Il ritorno di Bogart. Enfri, cos'è il fatto? L'ho fatta male? Eh! L'ho fatta meglio quella volta. È venuta più... Eh, spero. Però non è... Eh, via. Non è male, no? No, 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 lo faccia bene. Sì, prima di tutto, non deve interpretare nessun personaggio. Non si preoccupi. Se stesso, come quella sera. Anzi, uscendo, quando prima di diventare, si medesimi. Sono io, come quella sera. Sono io, sono io. Via. Deciso. Sono io, come quella sera. Sono io, come quella sera. Ma no, ma che fa? L'anarchico è qua che ascolta. Sono io, sono io questa sera. Ha sentito? Ecco, scoppia ridere, che rideva ancora adesso, rideva. Ma era per... Ma no, 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 interiorizzi, per favore. Interiorizzi, cioè, pensi nel cervello e nello stomaco, quello che deve dire. Non esterni. Esternare, interiorizzare. Su, vada, dopo le spiro. Vabbè, poi... Posso rifarlo? Eh, certo che devo rifarlo. Voglio capire com'è la sera. Vada. Mi hanno telefonato adesso da Roma. Ho una bella notizia per te. Il tuo amico, pardon, il compagno ballerino, ha confessato. Ha messo di essere stato lui a mettere la banca... La bomba. Lo rifaccio. Sì. Ma basta, l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo. Mi hanno telefonato adesso da Roma. Ho una bella notizia per te. Il tuo amico, pardon, il compagno ballerino, ha confessato. Ha messo di essere stato lui a mettere la bomba alla banca di Milano. Capito, capito. Sì, sì, sì. Va bene. Lei è uscito, poi è entrato e dopo una breve pausa artistica ha sparato... Beh, lo faccio ancora. Reciti come ha fatto quella sera, il suo ingresso e si immagini che io sia sempre l'anarchico seduto qui. Prima è entrato lui, mi ha fatto il suo saltaposso, adesso tocca a lei, il secondo saltaposso. Cioè, come duro... Come duro... Lei è l'anarchico. Io sono l'anarchico e lei è... Il commissario... Ah, io... Lei è se stesso. Vabbè, duro... Duro, duro. Vado? Come quella sera. Vado. Prego. Mi hanno telefonato adesso da Roma, ho una bella notizia per te. Oddio, che è? Il ritorno di Boga. L'ho fatto male? L'ho fatto meglio quella volta. Eh, spero, se no quello... Stava ridendo ancora adesso. Vabbè. Lei non deve... Ma mi sembrava una... Ma non deve interpretare! Lei deve recitare se stesso. Ho passato... Ma no, lei deve dire... Io sono io come quella sera. Io sono. Sono io che parlo. Sono io. Più vero. No, ma è vero. Deve essere lei. Su, ma... Posso rifarlo? Certo, certo. Si ripeta. Prima di entrare, si mi designa. Sono io, sono io. Come? Vai, vai... Vai. Io sono io come quella sera. Sono io. Ma no, che fa? Vai, che fa? Ma che, interiorizzi. L'anarco dice... Io, io sono come quella sera. Dice, che è... Oddio, si butta prima. L'ha sentito? Eh! Allora, interiorizzi. Non deve dirlo con la bocca, ma dentro. È il suo stomaco, il suo cervello che dica... Non ho capito... Non importa, non importa. Le scrivo. Vada. Mi hanno telefonato adesso da Roma. Ho una bella notizia per te. Il tuo amico, pardon, il compagno ballerino, ha confessato. Ha ammesso di essere stato lui a mettere la bomba alla banca di Milano. C'è un po' gestualità, ma va bene. No, perché la banca è di là. La banca è di là. A Roma è di là, a banca è di là. Poi di là c'è Torino. Va bene. Però va bene, va bene. Sono sicuro che lui ha creduto... E come l'ha presa? Marissimo. C'è cascato. È evitato pallido. Mi ha chiesto una sigaretta. Se l'ha accesa? E poi si è buttato. No, no, non subito. Come non si è buttato subito? Lei in un primo tempo ha detto subito... Sì, è vero. E sempre lei, in un primo tempo, parlando qui con la stampa, anche con la televisione, ha dichiarato, eccolo qua, che prima del tragico gesto l'anarchico si sentiva ormai perduto, incastrato, fra virgolette, ha detto così. Sì, ho detto proprio così, incastrato. E poi che cosa ha dichiarato ancora? Che il suo alibi, quello secondo cui avrebbe trascorso il famoso pomeriggio dell'attentato, a giocare alle carte in un osterile, il naviglio era crollato, non reggeva più. E quindi era da ritenersi indiziato, anche per gli attentati alle banche di Milano, oltre che ai treni, e ha aggiunto che, dunque per finire, che il gesto suicida dell'anarchico era da ritenersi un evidente atto di accusa. Sì, l'ho detto. Gettandosi si era autoaccusato. E lei, il signor Commissario, si è messo a urlare contro i giornalisti Basta, piantatela! Che lo assillavano. Tanto quello era un delinquente! Era un mascalzone! Ma dopo appena una settimana, lei, il signor Questore, ha dichiarato, ecco il documento, naturalmente, vede che è proprio segnato, sottolineato, sul povero ferroviere non pesavano indizi concreti. Quindi era del tutto innocente. E anche lei, il Commissario, ha commentato davanti ai giornalisti, sì, quell'anarchico era un bravo ragazzo. Sì, ammettono, ci siamo sbagliati. Per carità, tutti ci si può sbagliare. Ma voi, se mi permettete, l'avete fatto un po' grosso. Prima di tutto fermate arbitrariamente un libero cittadino. Poi approfittate della vostra autorità per trattenerlo in questura oltre il termine legale consentito, senza neanche mandato di cattura. Non c'è ancora la legge reale, ma aspettate qualche anno! Guarda questa fretta! Il precolo di tempo! Poi questo povero anarchico me lo scozzate, me lo terrorizzate, andandogli a dire che voi avete le prove certe che lui è uno dei dinamitari delle ferrovie. Poi, più o meno scientemente, gli andate a creare il patema dicendogli ti licenziano, basta, sei il frutto, i dirigenti ti buttano via. Poi gli andate a raccontare che il suo alibi, secondo cui avrebbe trascorso il pomeriggio a giocare a carte in un'osteria di Noviglio, non esiste. Non si tornano testimoni, ce l'ha inventati lui. Poi, mazzata con il rintocco, gli andate a raccontare che il suo compagno, il ballerino, il suo amico caro, a Roma si è autoaccusato autore della strage delle banche di Milano. Quindi il suo amico è un infame, è un assassino incredibile, tanto che lui si abbatte, recita la famosa frase, è la fine dell'anarchia e si butta. Ma dico, ma siete mati? Scusate, io chiedo, ma siete mati? E io vi rispondo, siete mati? Lasciatelo dire a uno che se ne intende, voi siete mati. Ma come meravigliarsi che a uno scozzonato in quel modo gli prenda la crisi e si lanci dalla finestra? Ma dico, voi siete colpevoli e come? Voi siete totalmente responsabili della morte dell'anarchico da incriminare immediatamente per istigazione al suicidio, miei cari. Ma signor giudice, come è possibile? Il nostro mestiere, lo ha ammesso anche lei, è quello di interrogare gli indiziati. E per poterli far parlare per forza bisogna ricorrere ogni tanto a stratagemmi, a inganni, a qualche violenza psichica. Ma qui non si tratta di qualche violenza, ma di una continua violenza. Tanto per cominciare, voi avevate le prove certe che quell'anarchico avesse mentito circa il suo alibi del gioco delle carte nell'osteria di Naviglio? No, non avevamo prove certe, ma... Mai, ma non mi interessa, esistono ancora tutt'oggi due o tre pensionati che convalidano la sua tesi? Sì, ci sono. Quindi allora avete mentito anche alla televisione, anche alla stampa, andando a raccontare che sussistevano pesanti indizi, che ormai quel gesto aveva determinato un'autoconfessione e un'autoaccusa. Quindi le trappole, le trappocchetti non le giocate soltanto per far parlare gli indiziati, ma anche per sorprendere, per fregare la buona fede del popolo coglione e fesso! No, lasciatemi dire! Ma lei, voi lo sapete che il divulgare notizie false comunque è tendenzioso e è reato gravissimo? Ma quel mio collaboratore... No, basta, totò, non lo voglio più di ripetere. Mi piace, ma non in quest'ora. Lasci correre. Lei, un suo collaboratore, no? La storia dell'anarchico a Roma che si sarebbe autoconfessato autore della strage di Milano, da dove ve la siete succhiata? Io mi sono letto tutti i verbali, tutti dico, tutti i verbali, quelli condotti dalla polizia, redatti dal pubblico ministero, non appare mai neanche in un rigo che questo anarchico a Roma si sia detto colpevole della strage, neanche fiancheggiatore, nemmeno... Allora dico, tutta questa confessione fantomatica, da dove viene? Non mi direte che ve la... ve la siete inventata voi? Sì, ce ne siamo. Che fantasia! Ma voi siete sprecati nella polizia, voi dovreste fare gli iscrittori, e forse ne avrete l'occasione, in galera si scrive benissimo. Vi ho abbattuti. Ebbene, allora vi voglio aggiungere che a Roma hanno prove certissime di vostre colpe, responsabilità molto gravi, che hanno deciso di scaricarvi, sì, hanno deciso di scaricarvi. Il ministero degli interni e anche quello della giustizia hanno deciso di dare una lezione la più dura possibile per cercare di ristabilire una credibilità che ormai la polizia ha completamente perduto. No, è incredibile. Ma come possono? Sì, sì, avete ragione, due carriere rovinate. E la politica, miei cari, why mettersi in politica? Prima, se arrivate a un certo gioco, c'era da stangare le lotte dell'autunno caldo, c'era da creare un clima di dalle al sorversivo, poi le cose si cambiano. L'opinione pubblica sul fatto dell'anarchico defenestrato si è troppo indignata, vuole due teste. E lo Stato? Dele dà. Proprio alle nostre, appunto. Scusate, c'è un antico detto inglese che dice esattamente, quando un mastino... Scusi, scusi. Esca, per favore. Sì. Non le posso far ascoltare il detto inglese, sarà prima. Non si può. C'è un antico detto inglese che recita così. Quando il mastino è aizzato dal padrone contro i villani, e i villani se ne vanno a lamentarsene dal re, vanno a lamentarsene dal re, il re naturalmente scuzzona il padrone, e il padrone per farsi perdonare che fa? Ammazza il mastino. E voi pensate davvero, siete convinto? E chi sono io, se non l'incaricato apposito? Maledetto mestiere. Eh, ma so io chi mi ha fatto la forza. Gliela faccio pagare. Certo che saranno in molti a godere della vostra situazione, a riderne, soddisfatti. A cominciare dai nostri colleghi. È quello che mi fa andare più in bestia. Per non parlare dei giornali. Eh, sì. Chissà come ci sguazzeranno, eh? Era un sadico, un violento. Chissà che cosa non tineranno fuori sti vermi, che prima venivano a leccarti le mani. Dagli allo sbirro. Per non parlare delle umiliazioni, delle ironie, del grottesco. E li sfottò. Ecco, neanche più un posto di guardiano di macchine troviamo. Mondo bastardo. No, 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 non devi dire. Governo bastardo, lasci stare il mondo. Governo bastardo. A sto punto ci dica lei che cosa dobbiamo fare, ci consigli. Io? Voi, vedete, io sono il boy. Non lo vorrei vedere la nostra situazione. Io al marzo vi voglio dire, l'accordo è un po' più lungo, state attenti quando prendete il colpo. Allora, prego. Cosa ti ho? Cosa farebbe al nostro posto? Non può, ma mi mettete in una situazione, magari. Ma provi, lei sa cosa... Se al ministero vengono a sapere che io vi do dei consigli, io... Ma non glielo dico al ministero, ce lo dica a noi. Cosa farebbe al nostro posto? Al vostro posto? Mi butterai dalla finestra! Come? Mi avete chiesto un consiglio. Io piuttosto di accettare umiliazioni continue, mortificazioni, datemi il retto a coraggio, buttatemi. No, aspettate, ma che c'entra? Ma c'entra, non c'entra, buttatemi dalla finestra! Aspetti! Ma non si fa aspettare, cosa aspetti? Ma che ci fate in questo mondo? Vando bastardo, governo bastardo. Non lo spingo, non lo spingo, non lo spingo! Non sono io che spinga, è il raptus! Il raptus liberatore, vai, vai, che vuoi? Vai, vai! Aiuto, non lo spingo! Aiuto! Vai, vai! Aiuto! Aiuto! Che succede, dettore? Aiuto! Siamo impazziti, si entra senza bussare, spalanca la porta, corrente d'aria, questi mi volano via! Tranquillizzi, tranquillizzi per favore, non è successo niente, non è successo niente! Sta comodo, è stato solo un raptus! Un raptus? Sì, stavano per buttarsi dalla finestra! Anche loro? Sì, ma non vado a raccontarlo ai giornalisti, per favore! No, no, era lei, signor giudice, che voleva... Appunto! Ma come, signor giudice? Lei voleva buttarsi! No, lui spingeva! Sì, io spingevo, io spingevo, se devo dire la verità, spingevo! Ma loro stavano per buttarsi, anche senza spinta! Erano abbattuti, e quando uno è abbattuto, umiliato, mortificato, guardi che umiliazione che come sono giù! Ma con decenza parlando, mi sembrano un po' sulla tazza, come si dice! Ma siamo impazziti! Mi scusi, volevo dire sul water! Va meglio! Succo la vita e tiriamo l'acqua, come si dice! Forza, dottore! Eh, parla bene lei, ma nella nostra situazione, le assicuro, c'è stato un momento in cui quasi quasi mi stavo buttando sul senso! Mi stava per buttare di persona! Beh, anch'io già che ero rinco! E vedi, quando si dice il raptus, e di chi sarebbe stata la colpa? Di questo governo bastardo, e di chi se no? Che prima ti sollecita, reprimere, creare il clima della sovversione, del disordine incombente! Del bisogno dello Stato forte, tu ti butti allo sbalaglio e poi! No, 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 la colpa sarebbe stata soltanto mia! Sua? E perché? Perché non è vero niente, ho inventato tutto io! Non è vero che a Roma ci vogliono scaricare? No, non è vero, l'ho inventato! E le prove schiaccianti? Ma hai avuto prove! E la storia del ministro che voleva dei nostri testi? Ma il ministro vi adora, siete le pupille degli occhi suoi! Il capo della polizia poi, quando sente i vostri nomi, si commuove e chiama la mamma! No, scherza, vero? Ma niente affatto, tutto il governo vi ama! E vi dirò che anche il detto inglese del padrone che ammazza il mastino per far piacere al conto, anche quello è una frottola, ma quando mai un padrone ha ammazzato un mastino per far dar piacere e soddisfazione a un contadino? Semmai è tutto il contrario! E se casomai, puttacaso, nella rissa, gli muore il mastino, ecco che subito il re manda telegrammi di cordoglio, corone con bandiere! Se non lo farai inteso... Certo che lo farai inteso, lasci parlare a me, commissario! Scusi, dottore! Vorrei proprio capire, signor giudice, perché ha voluto montare questa fandonia! Fandonio, ma no, ma no, Fandonio, Fandonio, si tratta di quei normali trabocchetti o trappole che anche la magistratura ogni tanto gioca per poter dimostrare alla polizia quanto questi metodi siano poco civili e soprattutto criminali! Allora lei continua a rimanere nella convenzione che se l'anarchico si è buttato alla finestra saremmo stati noi a spingere! Ma me lo avete convalidato voi due minuti fa, perdendo la testa laggiù! Ma noi non eravamo neanche presenti nel momento in cui si è buttato! Domandi alla guardia! Sì, signor giudice, loro erano appena usciti quando quello si è buttato! Visto? Ah! A voi quando lui era là eravate... Certo, allora è tutto diverso, perché sarebbe come dire che se uno innesca una bomba in una banca poi esce, non è responsabile della strage che combina perché non era presente al momento dell'esplosione! Se lui non è lì, non scoppia con la bomba, lui non... Bravo! C'è un equivoco! La gente si riferiva alla prima versione e noi stiamo parlando della seconda! Ah già, perché c'è stata una specie di ritrattazione in un secondo tempo! Proprio ritrattazione non direi, una semplice correzione! Sentiamo, che cosa avete corretto? Aspetti un attimo, guardi l'avverto che è tutto verbale, quindi non contraddicetevi! Io spero di notte! Allora, ditemi! Abbiamo semplicemente corretto l'ora del, posso dirlo, dell'inganno! Come sarebbe a dire dell'inganno? Sì, insomma abbiamo dichiarato che il tranello l'anarchico con relativa frottola invece che a mezzanotte gliel'abbiamo recitato alle 8 di sede! Alle 20 insomma! Ho capito, avete anticipato tutto quanto di 4 ore, compreso il salto della finestra, una specie di orario estivo sviluppato! No, 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 il volo è rimasto invariato, a mezzanotte c'erano i testimoni! E fra gli altri quei giornalisti che stavano nel cortile, si ricorda? No! Sì, quello che ha sentito i tonfi sul cornicione al sole a corso per primo, quello si è segnato subito l'ora! Ah! Allora, allora, e succede questo, che il saltafosso bidone gliel'avete giocato verso le 8 di sera e invece il salto alla finestra è avvenuto 4 ore dopo, a mezzanotte, e dico, allora scusate, dove va a finire il raptus? Fino a prova contraria, è proprio su raptus che si basa tutta la vostra versione del suicidio, e voi sul più bello mi sbattete via il raptus! No, non glielo sbattiamo affatto via! Sì, voi me lo sbattete il raptus! Voi mi allontanate il momento in cui lei, commissario, o lei o chi per lei, entrate e fate il saltafosso bidone l'anarchico, dopo 4 ore quello ci ripensa e dice, ma io 4 ore fa mi ero incazzato! Dopo 4 ore! Ma dopo 4 ore avrebbe avuto il tempo di smaltire altro che quella di frottola l'anarchico, gli potevate raccontare anche che Bacuni era un pappone, e che faceva, che so io, il confidente della polizia del Vaticano ed era lo stesso! Era proprio quello che volevamo! Volevate raccontargli di Bacuni in pappone? No, volevamo dimostrare che il raptus non poteva essere stato determinato dalle nostre false affermazioni, perché da quel momento all'altro del suicidio erano trascorse 4 ore! Eh già, è tutto spostato! Eh sì, 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 è perfetto, non fa... Cioè, perché il saltafosso bidone c'è stato, ma non può essere ritenuto determinante! Quindi siamo innocenti! Innocenti! Non so poi come l'anarchico, a un certo punto, si è lasciato prendere dall'idea di buttare, ma non ha importanza, quello lo troveremo dopo! Importante è che adesso noi siamo certi che voi siete innocenti! Grazie! Le dico con sincerità che temevo lei partisse prevenuto nei nostri riguardi! Perché prevenuto? Dicoci, volesse colpevole d'ogni costo entrato lì con quello... No, 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 per favore! Se io mi sono comportato in un modo piuttosto duro e provocatorio, ammetto nei vostri riguardi, è stato soltanto per indurmi a presentarmi, a procurarmi prove inni, proprio inconfutabili sulla vostra onestà e sulla vostra chiarezza! Ne sono sinceramente commosso! È bello sapere che la magistratura è la migliore amica della polizia! Scusi, diciamo collaboratrice! Sì, diciamo collaboratrice! Però anche voi dovete collaborare in modo che io riesca a rendere inattaccabile la vostra posizione! Senz'altro! D'accordo! Tanto per cominciare, noi bisogna trovare, con argomenti inconfutabili, la dimostrazione che quell'anarchico, nelle quattro ore, aveva smaltito, aveva avuto tutto il tempo di smaltire il più piccolo scoramento, il famoso crollo psichico, come lo chiama il pubblico ministero! Scusi, c'è la testimonianza della gente qui, e anche la mia, signor giudice, in cui si afferma che l'anarchico, dopo un primo motto di sconforto, si riprendeva! Scusi, è averbale! Spero di io l'ho detto, nella seconda versione! Se è averbale andiamo bene! Sì, è fortunato! Guarda, ve lo dice, esattamente, dice, il ferroviere si calma, ed è nella seconda versione! Anzi, scusi, mi permetta, ma nella prima, io addirittura ho detto, e c'è averbale, che l'anarchico sorrideva! Ma si immagina, è un anarchico che ride! È bello questo! No! No, perché è enfatico! Lei deve evitare l'empatismo, hai capito? Già nella prima versione lei è andato a raccontare una cosa orrenda! È andato a raccontare che l'anarchico si era acceso una sigaretta, sigaretta, poi ha battuto e è andato verso la finestra e getta la cicca, dice, ma come? L'ha appena accesa, che cicca è? Ma è un anarchico chi se ne frega! Poi, dice, si è avvicinato alla finestra, dopo aver buttato, ha appoggiato, ha recitato, proprio alla Francesca Bertini, è la fine dell'anarchia! Ma chi la crede? Una versione di questo genere, ma chi la crede? Ma non vede mai film americani di polizia? È solo così? Ha ragione, signor giudice, è stata tutta un'idea sua, dal giovanotto qui, gliel'avevo anche detto, le sceneggiate lasciamo le fare ai cinematografari, noi facciamo i poliziotti! Scusate, a questo punto per capirci qualche cosa, l'unica cosa, è buttare tutta l'aria e tornare a costruire tutto da capo! Dobbiamo dare una terza versione! Per carità, bastano già le due versioni che avete dato, si tratta di renderle credibili! Allora, punto primo, regola prima, quel che è detto è detto non si torna più indietro, quindi rimane stabilito che lei, e lei e chi per lei, siete entrati a turno, avete fatto il vostro saltafosso bidone, l'anarchico si abbatte, purtroppo l'avete detto, recita la sua frase meno drammatica, dopo essersi accesa la sigaretta, va verso la finestra, ma ecco qui abbiamo la variante, qui abbiamo la variante! Non si è buttato subito dalla finestra, perché? Perché non erano ancora mezzanotte, erano solo le otto di sera! Come da seconda versione! E si sa un ferroviere rispetta sempre o il violante! Un ferroviere, guarda il cosi, c'è tempo! Fumo! Fatto sta che così abbiamo tutto il tempo di fargli cambiare umore, tanto da fargli rimandare all'intento suicida! Non fa una grinza! Perfetto, perfetto! Ci manca qualche, ma anche il particolare, perché sono i particolari che fanno un'inchiesta! Voglio dire che il tempo, quattro ore da sole, non bastano per medicare, per cancellare certe ferite! Bisogna che qualcuno di voi sia intervenuto con un gesto... Io gli ho dato un ciugno! Lei ha dato un ciugno? Sì! Gliel'aveva chiesto lui l'anarchico? No, ne avevo io uno e... Gliel'ha dato! Bello! Grazie! Lui ha dato un ciugno! Sono i particolari che contano, state attenti! E voi che cosa avete fatto? No, io non c'era! No, è un momento delicato! Signor questore, lei doveva esserci! D'accordo, c'ero! Va bene! Possiamo dire che l'oscuramento in cui avevate notato essere caduto l'anarchico vi aveva commosso? Sì, a me vi aveva commosso tantissimo! E possiamo aggiungere che l'essere consci voi di essere responsabili dell'abbattimento in cui si trovava questo anarchico vi era dispiaciuto? Lei, signor, questo era una persona sensibile! Sì, sì, mi ha fatto una certa pena, mi era dispiaciuto! Bravo! E non ha potuto fare a meno di appoggiare una mano sulla sua spalla? No, non credo! È un gesto paterno! Beh, forse, ma non ricordo! Io dico che l'ha fatto, mi dica che l'ha fatto! Sì, l'ha fatto, l'ho visto io! Vabbè, ma ha visto lui! E lei non ha potuto fare a meno di dargli un buffetto sulla guancia così? No, non mi dispiace deluderla, ma sono sicuro che non gli ho dato nessun buffetto! Certo, mi delude! Come mi delude? E sai perché mi delude? Perché l'uomo, oltre che essere un anarchico, era anche un ferroviere! E sai che significa ferroviere? Significa qualcosa che è legato per tutti noi alla nostra infanzia? Significa trenini elettrici e ammolla! Lei da bambino avrà avuto un trenino! Oh sì, era un treno a vapore col fumo! Un treno blindato, naturalmente! E faceva tuttù! Quando usciva dalle gallerie? Tudà! È bellissimo! È bellissimo! Mi ricordo! Ma ha commosso anche... Ma ha visto, ha detto tuttù, ti sono riempiti gli occhi di lacrime! Tuttù! Senta! Lei, 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 lei non ha potuto fare a meno di dare il buffetto, sono sicuro! Perché vede, se quella... se quell'uomo fosse stato... Un banchiere, lei non l'avrebbe neanche degnato d'uno sguardo, ma era un ferroviere! E sono sicuro che lei gli ha dato il buffetto! Ma sì, è vero, l'ho visto io, gliel'ha dati! Due buffetti! Due! Importante! E che cosa ha giunto, mentre lo buffettava? Questo proprio non ricordo! Glielo dico io! L'aiuto, l'aiuto! Grazie! Lei ha detto, sicuramente, dico, su, su, vedrai, ragazzo, l'ha chiamato anche per nome, non ti abbattere così, vedrai, l'anarchia non morirà! Ma no, l'anarchia non morirà! Ma no, no, ma non l'ho detto! Si riprenderà! Ma no! Ma si figura! Starà meglio! Lei l'ha detto! Per Dio, guardi la gola come mi vibra il collo! Si, se le fa piacere l'ho detto! No, non perché mi faccia piacere, ma perché lei l'ha detto! Non perché le fa, ma perché... No, no, no! L'ha detto! L'ho detto, perché l'ho detto! L'ha detto! E adesso lo dica in alta voce che devo mettere la verbale, per favore! Per forza! Soltanto a volte! Allora, cosa ha detto esattamente? Su, 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 su... Su, 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 su... Quante volte? Dodici! 8, 6, 5... 2, basta! 2, 2, 2... Su, su, su... Ragazzo! Ragazzo! Vedrai! Vedrai! Ragazzo! Basta una volta ragazzo! Per... Ragazzo, ragazzo! Non te la prendere! Mi riferivo alla... Sì, non te la prendere dentro! Dentro! L'anarchia... Vedrai, vedrai... Vedrai, vedrai... Vedrai, l'anarchia... Non morirà! Non morirà! Non morirà! No, bene, bene, è chiaro! L'anarchia... Non morirà! E spastico lei! Lo gridi! L'anarchia non morirà! Ecco! E a questo punto avete cantato! Abbiamo cantato! Per forza! A questo punto si è creato un clima di simpatia, di amicizia, di cordialità che non si può paramento di cantare tutti insieme come ai bei tempi Sentiamo cosa avete cantato Nostra patria, l'inno dell'anarchico Nostra patria... Chi ha fatto la prima voce? Lei ha fatto la prima? La seconda lei? Contralto? No, 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 no Sul fatto del canto in coro non la posso proprio più seguire No, neanch'io! Non mi seguite Sul canto in coro non mi seguono E allora io non seguo voi Io esporrò i fatti così come voi me li avete raccontati Nella stessa sequenza Sapete che ne viene fuori Sapete che ne uscirà Scusate il termine un po' colorito Ne verrà fuori un gran casino Dite una cosa E poi la ritrattate Date una versione Dopo due minuti ne date una completamente diversa Non vi trovate nemmeno d'accordo fra di voi Fra di voi! Date delle dichiarazioni alla stampa e alla televisione se non sbaglio di questo tenore Purtroppo dei verbali non esistono coppie Dei interrogatori condotti anarchico non ci sono i verbali perché non si è fatto tempo Volevamo fargli firmare ma lui E poi nemmeno dopo due giorni salta fuori un primo verbale Poi un secondo verbale Poi un terzo verbale L'ultimo addirittura firmato da lui Di suo pugno da vivo! Ma come avete fatto? Ma se un indiziato si impapocchiasse e contraddicesse la metà di quanto è successo a voi L'avreste ammazzata di botte? Ma chi volete che vi creda più adesso salvo il giudice istruttore e il giudice archiviatore naturalmente Sapete cosa pensa di voi la gente? Perché siete dei gran bugiardoni oltre che dei biricchini Nessuno vi crede più Nessuno Dimenticherà mai la frase piuttosto infelice Gridata da lei il signor commissario verso la vedova Che le chiedeva come mai non l'avesse ancora avvertita della morte del marito Non mi rompa la... Non lo mettiamo a verbalo per carità Mai una volta che vi lasciate andare Che sbraghiate, che urliate, che bestemmiate, che irridiate, che cantiate E mai una volta che la gente vi saprebbe perdonare tutte le contraddizioni in cui siete caduti Ma se in cambio dietro a queste contraddizioni Riuscisse a intravedere due cuore, due uomini umani Che si lasciano prendere dalla commozione alla gola E che ancorché poliziotti arrivano al punto di cantare l'inno dell'anarchico con l'anarchico stesso Pur di fargli piacere la nostra patria... Ma chi, 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 chi non urlerebbe i vostri nomi festanti? Chi non scoppierebbe in lacrime di commozione sentendo raccontare una simile storia? Datemi rete per voi, per il vostro... Perché tutta l'inchiesta, la revisione vada in vostro favore Cantiamo! Cantate! In là! Raminghi per le terre, voce! E per i mari, per un'idea lasciamo, voce! I nostri cari, nostra patria, il mondo intero Nostra l'eterno libertà ed un pensiero Ed un pensiero, nostra patria, il mondo intero Nostra leggera libertà ed un pensiero Ribele in concista Bene, bene, a questo punto nessuno potrà più mettere in dubbio che l'anarchico non fosse più che il sereno Io azzarderei che fosse contento Certo, il fuoco di fila delle nostre contestazioni false non aveva minimamente intaccato la sua psiche Ecco, il raptus viene dopo, quindi ha perso che ora? Mezzanotte circa Mezzanotte col salto E' vero, è vero, è vero, c'è questo freddo, un gelo, ma come mai? Forse perché è appena andato giù il sole Ah, ma allora quella sera non è andato giù Come? Il sole quella sera, quando si è buttato l'anarchico dalla finestra, il sole non è sceso È rimasto su Non capisco Non c'è stato il tramonto Ma dico, se a mezzanotte di dicembre la finestra era ancora spalancata E perché? Perché qui non faceva freddo E perché non faceva freddo? Perché il sole era ancora alto, scendeva dopo, molto più alto Verso la 1 e mezza come in Norvegia in luglio Che c'è l'aurora poleale Ma no, l'avevano appena aperta per far cambiare aria alla stanza, vero? C'era molto fumo La sala anarchico fumava molto Ah, ecco, ecco E c'era la finestra spalancata, i vetri, anche l'imposto Anche l'imposto, certo Ecco, che è strano però, che è una misera C'era il termometro sotto zero La nebbia che ingessava E voi qui tranquilli, anzi ma chi se ve Via, aprile le finestre Vogliamo l'aria Che non ce ne frega niente la bronchina e le polmonite Ma avevate i cappotti No, eravamo in giacchetta, questa aveva Ma che è strano Che sportivi Ma non faceva freddo, glielo assicuro No, non faceva freddo Che è strano Il servizio meteorologico quella sera aveva dato per tutta l'Italia Temperature da far barbellare un orso bianco Invece loro qui, primavera Ma cosa avete? Un monsone personale africano che vi passa qua tutte le sere? O è la corrente del golfo Che esce dal tombone di San Marco E vi passa sotto casa con le fogne? Signor, io adesso non capisco Poco fa ha detto di essere qui apposta per aiutarci E invece non fa che mettere in dubbio ogni nostra testimonianza Ha ragione Ha ragione Ha ragione Io sfotto Scusi D'accordo Ma anche voi non mi aiutate molto Qui mi sembra di essere davanti a uno di quei giochi Per deficienti e ritardati Che si leggono sulle certe settimane neguistiche Trovare i 37 errori e contraddizioni In cui è caduto il commissario Baciocchi stupidoni Come faccio a aiutare? Adesso non abbattetevi in quel modo Non abbattetevi in quel modo per favore Su, su, ecco Vi prometto che non sfotterò più Anzi, lasciamo correre l'antefatto E veniamo al fatto vero e proprio Cioè al salto della finestra L'anarchico è qua Si alza in piedi Prende la rincorsa Arriva davanti alla finestra Un momento Chi gli ha fatto il predellino Come il predellino Chi si è messo In questa posizione Davanti alla finestra Con le dite incrociate E incrociate all'altezza del ventre Per permettere all'anarchico di appoggiare il suo piede E quindi lo slancio Vai anarchico Ma vuole che noi, signor giudice, si mettiamo No, per favore, non scaldatevi Io chiedo soltanto Faccio, è vero, faccio delle provocazioni Ma perché voi mi rispondiate Perché non vorrei Che, col fatto che c'è poca rincorsa Il salto è piuttosto altino Solo, senza appoggi Non vorrei che poi qualcuno Mettesse in dubbio Non c'è niente da mettere in dubbio L'anarchico ha fatto tutto da solo Ah, ma c'era una predella Di quelle da competizione No, nessuna predella Ho capito Il saltatore aveva tacchetti elastici La Brummel No, nessun tacchetto La Brummel Va bene E ora abbiamo Un uomo alto Sì o no Uno Sessantaquattro 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 Solo Senza appoggi Senza scalette Tutti intorno Una mezza dozzina Di agenti Che essendo Pochi passi da lui Anzi uno si ritrova Addirittura appoggiato Su questo mobiletto Vicino alla finestra Ebbè nessuno Riesce a fare in tempo Intervenire per bloccarlo Ma è stato così all'improvviso? Ma lei non ha idea Di come fosse agile A quel demonio Io ero qui Ho fatto appena in tempo Ad afferrarlo Per un piede Avete visto Le provocazioni funzionano Lui l'ha afferrato Per un piede Sì ma mi è rimasta in mano La scarpa E lui è andato di sotto Lo stesso Non importa Se è sceso Lui Una l'avrebbe Sarebbe rimasta in mano Al vostro agente L'ha testimoniato lui stesso Qualche giorno dopo il fattaccio Sì sì Ad un cronista Del Corriere della Sera Un nostro informatore Sì e qui In questo altro allegato Si assicura Che l'anarchico Morente sul selciato Aveva ancora ai piedi Tutte e due le scarpe Ne danno assicurazioni Alcuni accorsi Fra i quali c'è un agente No È un cronista Dell'unità Cosa ci fa? Non capisco come possa essere successo Che il cronista dell'unità Fosse lì sotto a mezzanotte No Dico Che cosa ci fa l'unità Ma stia al suo giornale Ma cosa va in giro Con tutto quello che c'è da fare L'ha visto le due scappe Sì Porca A meno che Questo vostro agente Appena si è reso conto Che gli era rimasta La scarpa in mano Si è precipitato Come un patto Giù per le scale Ha raggiunto Il pianerotto Secondo piano Si è affacciato alla finestra In tempo Per vedere Sopraggiungere L'anarchico Senza la scarpa Ha ammirato il piede Gli ha infilato la scarpa E risalito al quarto piano Come un raggio In tempo Per vedere il precipitante Raggiungere il suolo E schiantarsi Con due scarpe Ecco Vedete che riprende a fare Dell'ironia È più forte di me Scusate L'altra parte Capite Se ha tre scarpe No Una le la toglie Quell'altra Era tripede Chi? E con l'anarchico Se aveva tre piedi Forzatamente Doveva portare tre scarpe Non era tripede Non si arrabbi Per favore A parte che da un anarchico C'è da aspettarsi Questo ed altro Questo è vero Che guaio Che guaio Se non troviamo Una ragione plausibile Ma dico Perdersi in tre scarpe Perdersi in tre scarpe Una ragione plausibile A me no Ecco l'idea Io l'avevo avuto Questo è plausibile Sentiamo Al mattino Quando si è svegliato L'anarchico Si è infilato Tutte e due le scarpe Tutte e due Poi si è accorto Che una delle due scarpe Era un po' larga Ci abbattava Come si dice E allora Non avendo sotto mano Un sottopiede da infilare Ha infilato Una scarpe più stretta Prima di infilarsi Quella larga Due scarpe Nello stesso piede Sì Come si fa Con quelle Soprascarpe di gomma Le caloche Quelle che si portavano una volta Appunto Una volta Ma c'è chi le porta ancora Anzi sapete che vi dico Quelle che rimastono Nelle mani Del vostro agente Non era una scarpa Ma era una caloche Vogliamo un anarchico Con le caloche Dai Ma è roba Da gente all'antica Da conservatori Gli anarchici Sono molto conservatori Già E per questo Che ammazzano i re Certo Per poterli conservare Imbalsamati Se Se uno aspetta Che i re Muano per proprio conto Consunti dalle malattie Invecchiati In cartapecoriti Poi non riesce Non si riesce Imbalsamati Si disfano Divendano polvere Invece così Ammazzati di fresco Gli metto un limone in bocca Signor Su certi argomenti A me non va proprio Ecco non accetto neanch'io Tolgo il limone D'accordo Ma scusate Io vi sapevo Nostalgici Ma non certo Della monarchia Adesso se non vi va La storia del Tripede Non vi va Quello dei treppieri Non vi va il limone Non so Scusi Sì dimmi Ah un momento Signor questore C'è il piantone Che dice che c'è una giornalista Che chiede di lei Ah sì Le ho dato un appuntamento Per oggi E' quella dell'espresso Dell'europea Non mi ricordo Chieda se si chiama Feletti Scusa si chiama Feletti? Maria Feletti Eh sì E lei Volevo un'intervista La preghi di passare Un altro giorno Che oggi non ho tempo No 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 Non permetto Assolutamente Non permetto Che causa mia Andiate di mezzo voi In che senso? Io la conosco Questa è una giornalista E' una che conta Una di quelle che contano Ed è di un permaloso tremenda Questa è capace Per ripicca Di scrivervi un articolo Contro Che mi brucia Datemi letta Fatela salita Ma la sua incesta? Può aspettare Non avete ancora capito Che mi ritrovo Nella vostra La stessa barca E gente come questa È sempre meglio Averla con noi Piuttosto che contro La faccio salire D'accordo La faccio passare Falla passare Accompagnala su da noi E lei che fa? Ci lascia? Non abbandono mai Gli amici Nel momento del pericolo Resta? Certo Ma in che veste? Vuole che quella voltoio Di giornalista Venga a scoprire Chi è lei E che cosa fa qui Per poi scriverla Tutta pagina Sul suo giornale Ma allora lo dica Che ci vuole rovinare Ma no Ma no Ma no Io La voltoio Come la chiamate voi Non verrà mai a sapere Chi io sia veramente Ah no? No perché io cambierò Di personaggio Per me è una cosa Da ragazzi Figuratevi Diregente della scientifica Direttore dell'Interpol Psichiatra della criminal Quello che vuole Il personaggio che preferite L'importante è questo Che quando la giornalista La voltoio Vi facesse qualche domanda Un po' carogna Voi non rispondete Voi strizzate l'occhio A me io intervengo E' importante che voi Non ci andiate di mezzo Lei è troppo generoso Signor giudice No Per Dio Giudice non c'è più Io non sono più giudice E no Se no Sbagliamo subito No Da questo momento Io sono il capitano Banzi Piccini della scientifica Ma esiste davvero Il capitano Piccini Sta a Roma Ma come Io invento Io invento un nome così A casa E quello esiste Bene Bene Così se la voltoio Scrivesse un articolo Che non ci fa piacere Sarà facile dimostrare Che si è inventato tutto Mandando a chiamare A testimoniare Da Roma Il vero capitano Banzi Piccini La roviniamo Ma lo sa che è un genio Lei Ha indovinato Ma se la siete davvero Di interpretare Questa parte da capitano Nell'ultimo conflitto Ero cappellano Di bersaglieri Silenzio è qui Avanti signorina Si accomodi Buongiorno Il signor questore Per favore Sono io Piacere signorina Noi ci conosciamo Solo per telefono Purtroppo Piacere Il suo agente Giù alla porta Mi faceva qualche difficoltà Ha ragione La colpa è mia Che ho dimenticato Di preavvertire del suo arrivo Le presento i miei collaboratori L'ha puntato Zitto Pisani Io lo conosco Il commissario dirigente Quest'ufficio Accidenti Ma che stai E il capitano Capitano Permette che mi presenti Capitano Banzi Piccini Della scientifica Mi perdoni la mano di legno È un ricordo Della campagna D'Algeri Paragautista Della regione stradiera Si accomodi Grazie Ti verrà bene qualcosa No grazie Se non vi dispiace Preferirei incominciare subito Avrei un po' di fretta Purtroppo Devo consegnare l'articolo Entro stasera Va in macchina stanotte Va bene come crede Cominciamo senz'altro Noi siamo pronti Avrei parecchie domande da fare La prima riguarda proprio lei Commissario E mi perdoni Se è un po' provocatoria E se non vi dispiace Uso il registratore Sempre che non abbiate Niente incontrare No 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 Per verità Lei faccia come crede Prima regola Mai contraddire Ma che ti importa Lascia con lei Lascia con lei Scusi non signori C'è qualcosa che non va Il commissario Stava attessendomi le sue lodi Dice che lei è una donna straordinaria È una democratica convinta La certrice della libertà E della giustizia Costi quello che costa Eh beh Il commissario è troppo generoso Vabbè Dica pure Perché la chiamano Finestra Cavalcioni Finestra Cavalcioni A me O anche commissario Cavalcioni E chi mi chiamerebbe così? Dunque ho qui la fotocopia Della lettera Di un giovane anarchico Inviata dal carcere di San Vittore In cui il ragazzo Si trovava proprio Nei giorni della morte Del nostro anarchico E che parla appunto di lei Commissario di questa stanza Ma si? E che cosa dice? Il commissario del quarto piano Mi ha schiafato a sedere sulla finestra Le gambe penzoloni Poi ha cominciato a provocarmi Buttati E mi insultava Perché non ti butti? Non è il coraggio è E falla finita Cosa aspetti? Vi assicuro che ho dovuto Stringere i denti Per non soccombere Per non lasciarmi andare Ah! Hitchcock La finestra sul cortile La prego capitano È al dirigente di questo ufficio Che ho posto la domanda Non a lei Cosa ha da rispondere? Calma e sangue fredda Non ho niente da rispondere Piuttosto è lei signorina Che mi deve rispondere In tutta sincerità Lei pensa che io Abbiamo messo a cavalcioni Anche l'anarchico ferroviele Certo non ti cascare L'avvoltoio Vola via Vola via Dalla casa mia Sbaglio capitano Lei sta facendo opera di disturbo No Danza rituale Piuttosto è a lei signorina Che io chiedo Pongo la domanda Lei ci ha forse presi Per tanti propagandatori Di detersivi Dal momento che ci vede Intente ad ogni costo A fare la prova finestra Con ogni anarchico Che ci capi di sotto mano Eh non c'è che dire Lei è molto abile capitano Mi ha tolto da un bell'invito Vada piano Con le pacche sulla spalla Perché sotto La pezza nera Ho un occhio di vetro Mi schizza Scusi non vuole Vada piano E posticcia E a vite Se lei mi spampana la vite È finito Sempre fra gli incartamenti Del decreto depositato Dal giudice archiviatore Manca la perizia Delle parabole di caduta Parabole di caduta? Sì La parabola di caduta Del presunto suicida Ma a che serve? Serve a stabilire Se al momento dell'uscita In volo dalla finestra Il nostro anarchico Fosse ancora completamente vivo O meno Se si è uscito Cioè dandosi un minimo Dislancio Oppure Se si è cascato Inanimato Come infatti risulta Scivolando lungo la parete Se si sia provocato Fratture Lesioni Sulle braccia Sulle mani Come infatti non risulta Come dire Che il nostro presunto suicida Non ha portato le mani in avanti A proteggersi Nel momento dell'impatto al suolo Gesto naturale E assolutamente istintivo Sì Sì ma non dimentichi Che qui ci troviamo di fronte Ad un suicida Cioè uno che si butta Perché vuole morire Farsi male Non è detto Non è detto Mi spiace doverla contraddire Come vedi io sono più attivo Certo E si sono fatti fior di esperimenti Con suicidi Gli sono presi dei suicidi Volontari Si sono ancora vivi Gli sono portati sulla finestra Si li si è aiutati a scendere Ebbene Nel primo tratto I suicidi Volontari Scendevano Con strafottenza Le mani in tasca Poi arrivati In prossimità del terreno Tutti quanti Tracchete le braccia in avanti Per proteggersi dall'impatto Ah Bell'appoggio che ci dà Ma è matto? Sì Ma il particolare più sconcertante Sul quale gradirei una spiegazione È la mancanza Sempre far materiale Del decreto di archiviazione Del nastro apposito Sul quale è stata registrata All'ora esatta Della chiamata telefonica Dell'autoambulanza Chiamata effettuata Dal centralino della Questura E che anche Secondo la testimonianza Delle tighiere della Croce Bianca Sarebbe avvenuta Alle 12 meno 2 minuti Mentre tutti i cronisti Accorsi sul piazzale Hanno testimoniato Che il salto È avvenuto Alle 12 più 3 minuti In poche parole L'autoambulanza È stata chiamata 5 minuti prima Che l'anarchico Volasse dalla finestra Qualcuno di voi Mi può spiegare Questo curioso anticipo A noi succede spesso Di essere previdenti Di chiamare un'ambulanza In anticipo Si sta interrogando Un anarchico Dice Chiamo l'autoambulanza Che questo È già un po' nervoso Come vede Certe volte ci azzecchiamo Bravo Schizza l'occhio D'altra parte Non capisco Di che cosa Ci voglio accusare È forse reato Essere previdenti Appena 5 minuti In anticipo Andiamo nella polizia L'anticipo è tutto E poi io sono convinto Che la colpa Sia da imputarsi Agli orologi Voglio dire Quei cronisti Avranno butto Gli orologi indietro Avanti 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 O forse Sarà stato in ritardo L'orologio Marcatempo Del centralino telefonico Che ha registrato La nostra telefonata Certo Più che provare Zitto Oh Ma che strana Eccatombe Di orologi Ma perché strana Scusi Siamo in Svizzera Qui Da noi Ognuno L'ora la tiene Sull'indicazione Che vuole Le lancette Le sposta Le va Avanti Indietro Cioè c'è gente Che non tiene Neanche le lancette Le potesse inventare L'ora Io avevo un amico Che si teneva Sull'ora di New York L'orologio Sull'ora di New York E abitava New York Ma guarda che un bel male Siamo un popolo Di artisti Di folli Di individualisti Contrari a ogni regola Ogni indicazione Che sia morale Fisica E anche Geo Bravo Cosa è successo Mi ha schizzato Via l'occhio Mi ha dato una buona Adesso non ci vedo Quasi più Lo trovo subito Sì prego Che cosa stava dicendo Stavamo parlando Del fatto Sì Lei stava parlando Del fatto Che siamo un paese Di artisti Ribelli alle consuetudine Non è vero forse Sì sì è vero Soprattutto i giudici archiviatori Sono ribelli Ecco qui Tralasciano di raccogliere Le testimonianze dirette I nastri con le registrazioni Di ogli orari Le perizie di caduta Di chiedersi il perché Di un'autoambulanza Chiamata in anticipo Tutte qui squiglie Naturalmente Comprese le chimosi Sul bulbo del collo del morto Delle quali Non sono affatto chiare le cause Attenta signorino Le consiglio di non parlare a Bambera È pericoloso Cos'è una minaccia? No no È soltanto un consiglio Nel senso che Uno magari parla un po' a Bambera Gli si spacca una gamba Sì volando sulla Bambera Sul No no Non parlava a Bambera Io credo che la signora Parlasse Si riferisse a un fatto Realmente accaduto Forse una versione dei fatti Di cui ho già sentito parlare E guarda caso Questa versione è uscita dagli ambienti Di questo palazzo E di che si tratterebbe? Si racconta Si morbola Che durante l'ultimo interrogatorio Verso mezzanotte L'anarchico si è seduto lì E uno dei presenti Un agente Che lo interrogava Era piuttosto nervoso E' andato via un po' di rigolo Come si dice Cioè Era un agente Che è specialista di karate O karate E presso dall'Arabia Gli ha sferrato Gli avrebbe sferrato Un colpo Si accomodi Si è tranquillo Non succede niente Dunque Un colpo tremendo Proprio qui Dietro la nuova Cioè l'Atlante L'epistrofeo E qualcosa si è spaccato Evidentemente Perché è rimasto bloccato così Proprio non respirava più Era paralizzato Si è chiamato subito L'autoambulanza Eccolo qua L'anticipo L'autoambulanza Poi gli si è praticato Anche un'iniezione al braccio Perché si è trovato il buco Il foro Poi gli si è praticato Qualche Così Azione Respirazione Niente Non rinveniva Allora lo si è portato alla finestra Si è spalancato alla finestra Nel tentativo Stia tranquillo Non si mangi Quel fazzoletto Non sta bene Allora dicevo che Erano in tre Erano in tre A sorreggere Sapete come succede In questi casi Ognuno fidava nell'altro Lo tieni tu Lo tengo io Paglia Dio È caduto Plav Finito con plav Esatto E' proprio così Ma è impazzito Sedici anni fa Che è successo Su cosa sono slittato È slittato È slittato Sul mio occhio Guarda Me l'ha sferisato tutto Guardi Adesso guardi Scusi Agente Mi spiace andare a prendermi Un bicchiere Vorrei lavarlo Prima di inserirlo Nell'apposito loculo Beh Dovete ammettere Che questa ultima versione È perlomeno Molto più Molto più Confortante Questo giustificherebbe Per esempio La chiamata in anticipo Dell'autoambulanza La caduta Corpo inanimato Giusto E anche il perché Del curioso termine Usato dal pubblico ministero Nelle sue argomentazioni conclusive Scusi Io ho mal di testa tremendo Sia gentile Più chiara Quale argomentazione conclusive Dunque Il pubblico ministero Ha dichiarato per iscritto Che la morte dell'anarchico È da ritenersi morte accidentale Nota bene accidente Non suicidio Come avete detto voi due E c'è una bella differenza Fra i due termini D'altra parte Il dramma Così come l'ha esposto il capitano Volendo Si potrebbe definire appunto Un accidente Accidente Ecco Un accidente L'occhio 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 di vetro L'occhio L'ho ingoiato Ha ingoiato E adesso? Speriamo mi faccia passare Il mal di testa A che gioco sta giocando Il gioco dell'occhio Pericolosissimo Ma non le sembra Di aver dato troppa corda A quella voltura È una tecnica Adesso gli ribalto tutto Signorina Voglio dimostrarle Che la sua versione Infatti è completamente Inattendibile Già Inattendibile Inattendibile Come per il giudice Che ha archiviato il caso Sono inattendibili Le testimonianze Dai pensionati Cos'è questa storia Dei pensionati inattendibili? È strano Che lei non ne sia conoscenza Nel suo decreto D'archiviazione Il giudice archiviatore Ha dichiarato Inattendibili Le testimonianze Dei tre avventori Che citati Dal nostro anarchico Che asserivano Di avere trascorso Quel tragico pomeriggio Delle bombe In un'osteria del naviglio A giocare a carte con lui Come 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 Scusi scusi Sì sì Inattendibili Perché? Sì perché Dice sempre il giudice Archiviatore Si tratta di persone anziane Malfermi in salute E per di più invalidi E l'ha scritto anche Nel decreto Come danni torto Come si può ritenere Attendibile la testimonianza Data da un pensionato Ex operaio Come un ex operaio Può rendere Accettabile L'idea soltanto Di una mansione Così delicata Qual è quella Della testimonianza Perché un ex operaio Non può? Mi spieghi Ma lei dove va? Dove vive? Insomma Invece di andarsene intorno A farsi i suoi viaggi Di inchiesta Per il mondo Perché non prova Ad andare sul posto Dove Marghera Sesso San Giovanni Piombino Arese Ma lei ha idea Che cos'è un operaio Un ex operaio Quando arrivano La pensione Per Dio Ci arrivano ormai Spompati Ridotti A uno straccio Succhiati come limone Mi sembra che adesso Lei ne stia facendo Un quadro un po' troppo disperato Allora provi lei A andare direttamente Di persone Provi ad arriccharsi In una di queste osterie Dove giocano a carte Appunto i pensionati Li sentirà Rimpacciarsi L'un l'altro La perdita totale Della memoria Di essere dei rimbambiti Specie quando giocano A scopa Con lo spariglio Disgraziato Vuoi sparigliare Hai il Por Dio Hai il tallone Questo set di quadri Quando lo giochi Questo set di quadri Ma quello giocato Ma la mano prima Ma che mano prima Se hai svanito È la prima partita Che giochiamo oggi Sei tu che sei svanito Che avevi tu Il dieci di quadri E sei andato a giocarlo Sul tavolo dei vicini E li hai fatte pure perdere Il dieci di quadri Ma che Oh oh Giochiamo a ramino Sì Giochiamo a scopa raminata Vedi che sei rimbambito No sei tu che rimbambito Non ti ricordi di niente Ma con che credi Di parlare Tu Non lo so E tu Nemmeno io E lei pensa Che una testimonianza Possa essere valida No non posso Esagerata Esagerata Disturbo Venga venga Bertozzo Si accomodi Dovrei solo deporre questa Di che si tratta? Il facsimile della bomba Esplosa alla banca Oh mio dio Non si preoccupi Signorina è disinnescata Ecco da bravo L'appoggi lì E stenda la mano Al suo collega Anche lei Venga qui Fate la pace Ma pace di che signor questore Sapesi almeno perché Se l'è presa con me Da gonfiarmi l'occhio Non lo sai eh Il pernacchio Che pernacchio Basta insomma Ci sono degli strani Ci sono degli strani Sto rivoli Soltanto a capire Che gli è preso Entrato senza manco dire Buonasera Beh lì ha ragione Buonasera Almeno doveva digno Prima si l'ha incazzato E poi si l'ha incazzato E poi si l'ha incazzato Buonasera Vede Scusi ma lei Mi pare un tipo familiare Familiare Ah si Per forza siamo familiari Speculari siamo Abbiamo entrambi La pezza sull'occhio No no Scherzi a parte Permette che mi presenti Capitano Banzi Piccini Della scientifica romana Piccini Piccini Banzi Ma no non è possibile Io lo conosco il capitano Piccini No lei non lo conosce Ah come non lo conosco Ma vuole scherzare No che non lo conosci Ah senti non ricominciare Lasci correre Ah ma è stato mio compagno di corso Ma se gli dicono che non lo conosci Perché insistere scusa E' battico E' stato lui E' stato Commissario le voglio presentare La signorina Dopo le spiego La signorina Felitti Giornalista Ha capito adesso? Piacere commissario Bertozzo Piacere Felitti No non ho capito Ah Battico Ma come si permette Non ci conosciamo nemmeno Ma Insomma E' stato lui Ecco Vede Vede il signor questore E' lui che incomincia sempre Ah E' stato lui Oh ma dico Ma le sembra il modo Ah Hai ragione Ma non so come spiegarmelo Ma signor Bertozzo Ma smetta E mi ascolta Non ho fatto nulla La signorina è qui per un'intervista molto importante Capito? Ah Ancora Ma anche lei signor questore Ah Signorina la voglio pazientare Sì Bertozzo è un esperto in balistica esplosivica Ah Insomma Sono stato io Ma come è stato io? Ma come si permette? Ma Commissario Bertozzo Non ho capito bene cosa è successo Ma il questore diceva che lei è esperto in balistica ed esplosivi Sì Ecco Mi tolgo una curiosità Diceva che in quella cassetta C'è il facsimile della bomba della banca Beh Facsimile molto approssimativo Essendo andati perduti tutti gli ordigni originali Lei mi capisce Beh Ma una di bomba però se n'era salvata Sì Quella della banca commerciale E allora mi spiega come mai invece di disinnescarla E di consegnarla alla scientifica Perché la si esaminasse come di dovere I nostri ritrovatori sono subito corsi in un cortile L'hanno sepellita E fatta scoppiare E perché me lo chiede scusi? Lei lo sa meglio di me commissario In questo modo evidentemente è andata perduta anche la firma degli assassini Infatti si dice sempre Dimmi come la fai la firma Ti dirò come fai la bomba E ti dirò chi sei Ma Quello non è il piccini Ma certo che non lo è stia zitto Ah mi pareva bene Chi è? Ai Sì Il dottor Bertozzo mi permette In quantità di dirigente della scientifica Ma chi lo doi avere? Ma che cosa fa lasci stare quella cassetta per favore pericoloso? Oh, 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 ancora Senti signorina Guardi questa bomba E devo notare come è molto complessa Ci sono dei timer di innesco Ci sono dei bloopers Ci sono dei detonatori semplici associati Elettrici Dei fili, dei cavi E' talmente complessa Ci si potrebbe benissimo nascondere dentro Un doppio congegno a scoppio ritardato Senza che nessuno lo possa rilevare Per poterlo fare bisognerebbe realizzare Lo smottamento totale Bisogna distruggere la bomba Ricostruisola Nel frattempo si arriverebbe a vedere esplodere la bomba Pare un tecnico davvero, eh? Che ne dice? Sì Ma non è i piccini Ecco perché si è preferito Si è preferito far esplodere la bomba Distruggere così la firma degli assassini Piuttosto che rischiare di vedere esplodere Questa bomba nella folla Con un massacro peggiore del primo L'ho convinta? Sì, sì, sì Mi hai proprio convinto Ho convinto anche me Anch'io sono rimasto convinto Ha spampanato la vite Adesso non si avvita più, ha capito? Guardi qua Guardi qua Guardi qua Vida, gira vuoto Guardi qua che viene Dica qualcosa E' una mano Cosa devo dire? E' una mano Umbertozzo faccia vedere che nella nostra sezione non si dorme Sì, certo La vera bomba era piuttosto complessa Io l'ho vista molto più complessa di questa opera senz'altro di tecnici di alta scuola Professionisti come si dice Ci vada piano Professionisti, militari forse E' più che probabile Disgraziato Bene, bene, bene Così voi pur essendo a conoscenza del fatto che per costruire Oltre che per maneggiare ordigni del genere Bisognasse possedere perizia ed esperienza da professionisti Possibilmente militari Ciò nonostante, dicevo, vi siete buttati alla disperata Su un unico sparuto gruppetto di anarchici Lasciando perdere completamente tutte le altre piste Inutile che vi stia specificare di che colore è parte Certo che se lei sta alla versione del Bertozzo Che però non può fare testa Perché il Bertozzo non è un vero tecnico No E' un dilettante, è uno che si interessa così Per hobby, la domenica fa scoppiare qualche bomba Per far divertire i bambini Infatti ha una famigliora di bambini tutte così Ma poveri Con le manine, una pena Ma che cosa ne sa lei? Ma chi è lei? Chi è? Me lo volete dire? Buono! Noi! Buono! Buono! Stia comodo che tanto è seduto su una bomba Sì, si calmi commissario Uno è un fascista romano Un fascista romano noto a tutti Tranne che ai nostri poveri scombinati L'altro invece è un vostro agente di pubblica sicurezza Truccato ad anarchico anche lui Sì, devo dire che Per quanto riguarda questo anarchico Questo agente truccato ad anarchico Io non capisco come gli anarchici quelli veri L'abbiano preso sul serio E' un'acquila che se gli chiedi Cos'è Bakunin? Un formaggio svizzero senza buchi Grazie, mi fa questo Che sa tutto Conoce tutti Eppure io lo conosco Non sono assolutamente d'accordo con lei, capitano Il nostro agente spia è un ottimo elemento invece Preparatissimo E ne avete molti di questi agenti spia Preparatissimi Seminati qua e là Nei vari gruppetti dell'estrema sinistra? Non ho nessuna difficoltà a svelarle che sì Ne abbiamo molti Un po' dappertutto Eh eh, adesso lei sta bleffando No, niente affatto Anche stasera tra il pubblico le dirò Ce n'è qualcuno, come sempre Vuol vedere? Sì Dica, dottore Comandi Agli ordini Questi naturalmente sono attori No, perché gli agenti, i poliziotti ci sono Ma se ne stanno seduti, tranquilli Caso stesso Ha visto? I confidenti alle spie sono la nostra forza Servono a prevenire, tenere sotto controllo E soprattutto a provocare per dare la possibilità a noi di reprimere Ho voluto anticipare la battuta più che ovvia della signorina Sì sì, certo, più che ovvia E allora mi spiegate come mai, pur essendo, avendo completamente sotto controllo ogni componente di questo gruppetto di pellegrini Costoro sono riuscito a organizzare un colpo così complesso senza che voi interveniste a bloccarli Il fatto è che in quei giorni il nostro agente spia era assente dal gruppo È vero, è vero, infatti è tornato con la giustificazione firmata dai genitori Dal babbo Bravo, ottima parata Scusi, la mano ormai è spampanata, non tiene più Tenga pure quella, tanto io ne ho un'altra di riserva Eccola qua Ma questa è da donna No, è unisex Dunque E non le risulta per caso che su 173 attentati di Namitardi avvenuti fino ad oggi 12 al mese, uno ogni tre giorni Su 173 attentati, dicevo Ben 102 si è scoperto essere stati certamente organizzati dai fascisti E che per più della metà dei rimanenti 71 Ci sono seri indizi che si tratti addirittura di attentati messi in piedi da organizzazioni parallele alla polizia Vale a dire i servizi segreti Ma tremenda Non le posso certo avvallare i mandanti e gli organizzatori diretti Ma più o meno le cifre dovrebbero essere queste, che ne dice dottore? Dovrei controllare ma grosso modo mi pare coincidere Ecco, se le capita cerchi anche di verificare quanti di questi attentati sono stati organizzati Con l'intento di gettare i sospetti e le responsabilità sui gruppi dell'estrema sinistra Tremenda vippera Pure io quello lo conosco, adesso gli strappo la venda Ma che cosa, dove vuole arrivare signorina con queste sue continue e palese provocazioni Forse lei si aspetta che noi della polizia si ammetta che sì Che se invece di perderci dietro a quei 4 o 5 gruppi sparuti di anarchici Vi fossero seguite piste più attendibili Tipo, non so, organizzazioni paramilitari Legate a fascisti e naturalmente all'esercito Non soltanto quello nostrano ma anche quello straniero Con appoggi di polizie varie, insomma, per quella strada noi ci sarebbe arrivati al bandolo della matassa Non si preoccupi, adesso gli volta la frittata tutta ad un colpo e la sua tecnica ormai la conosco Dialettica gesuita Ebbene sì, ha ragione, se noi si fosse seguiti a quella pista ci saremmo resi conto Che tutte le stragi sono proprio organizzate dallo Stato Ammazza la dialettica gesuita Ma è diventato matto Sì, ma 16 anni fa Matto Il matto Ecco chi è lui Beh, devo dire che queste affermazioni fatte da un funzionario di polizia sono perlomeno sconciate Ho scoperto, chi è quello? Lo conosco E allora se la tenga per lei, non lo vado a raccontare in giro Ma ti dico che lo conosco Non è mai stato nella polizia, si è travestito Lo so, ma non farti sentire dalla giornalista Ma è un maniaco, capisci? Un maniaco Sei tu il maniaco che non mi fai sentire quello che dicono, sta zitto Vai via Certo, che lei è una giornalista In uno scandalo del genere ci sguazzerebbe che è un piacere Avrebbe soltanto il disagio di venire a scoprire che tutte queste stragi terribili Sono state organizzate per affossare le lotte dell'autunno caldo E soprattutto per creare un clima di tensione adatto a far sì che fosse proprio il cittadino Schifato da tanta criminalità a richiedere l'avvento dello strato forte Non ricordo se lo leggo sull'unità su lotta continua Ecco qua, vedete? Ce l'ho l'occhio, ce l'ho! Ma perché non dovrebbe averlo? Anche lei ce l'ha! Ma allora perché portava la benda se ce l'ha l'occhio? Anche tu ci hai la benda sotto l'occhio ma nessuno te la strappa, vieni via Ma che divertente! Ma così lei portava una benda per sfizio? No, era per non dare nell'occhio! Che divertente! Senta ma vada avanti, mi racconti degli scandali che sarebbero usciti? Molti scandali, tremendi scandali, soprattutto nell'estrema destra e anche in certi reparti militari Beh ci sarebbero stati degli arresti, è ovvio cominciare appunto militari, poi polizia, poi dirigenti, altisi, poi dentro il governo Anche qualche industriale, 500, 600 arresti sarebbero stati tenuti in carcere, poi diria qualche settimana avrebbero cominciato a lasciarlo, a lasciarli liberi, scagionarli Ma quello è tutto matto! Ma certo che lo è, non è che glielo sto dicendo! Al cittadino medio non interessa che vengano puniti gli autori di queste porcate Ma no, soprattutto non interessa che vengano perseguiti e che venga smantellata un'organizzazione Interessa soltanto che se ne possa parlare, che scoppi lo scandalo e si possa parlare liberamente Per lui questo è il migliore dei mondi, alleluia! Ma guardate qua, guardate la mano, non vedete che è finta? È finta, per forza è finta, l'ho trovata in un fustino di detersivo, serve per lanciare i mattoni che gli sono dentro Come? Lo sappiamo tutti! Ma è tutto un trucco! È una mano da manichino! Piazzoli, ma almeno vuoi smontare tutto! Oh ma insomma, perché me lo interrompete sempre? Cosa credete di farmelo apparire indegno per il solo fatto che ha una mano da manichino? Ma no, è soltanto per dimostrarle che millantatore, un ipocrito maniaco, che non è mai stato né mutilato né capitano! Insomma, ma si può sapere chi è? Ma è semplice! Scusi signorina, lo voglio nel telefono! Incosciente, ci vuoi rovinare? Non capisci che deve rimanere segreto? Se la signorina viene a scoprire della controinchiesta, siamo rovinati! Che controinchiesta? Ah, allora cosa sbroffa di sapere tutto che non sai niente, chiacchieri, chiacchieri, fai casino! Io non faccio casino, io voglio solo sapere! Vito, telefoni e basta! Pronto, chi parla? Signor questore non si deve più preoccupare ormai, il capitano, cioè l'ex capitano mi ha detto tutto! Che cosa le ha detto? Mi ha detto chi è veramente! Gliel'ha detto sì! Non ho più potuto continuare a mentire! D'altra parte l'aveva già intuito da sé! Che bacio! Ma si è fatto almeno promettere di non scriverlo sul giornale! Ma certo invece che lo scriverò, ci mancherebbe altro! Ecco qui l'articolo di domani! Negli uffici della polizia ho incontrato un vescovo in borghese! Un vescovo! Scusate se l'ho tenuto nascosto! Pure il vescovo adesso? Ma non gli crederete per caso? Ci hai scocciato davvero! Permetti che vi presenti il padre Augusto Bernier, incaricato dalla Santa Sede come un collegamento verso la polizia italiana! Collegamento con la polizia! Dopo gli ultimi attentati che si è cercato di arrivare al Papa, insomma, si è cercato a nostra volta come delegati, meglio, come responsabili della salute e dell'integrità... No, 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 questo è troppo pure il vescovo poliziotto adesso! Lo so anche io che è tutta una balla, però lui si è fatto vescovo apposta per salvarci, capito? Per salvarci? Sì! Ma ti ha preso la crisi mistica? L'anima da salvare? Ahia! T'ha ciamato l'anello! L'anello non mi rifiuto! Un bacino! Siete impazziti tutti, vi ha contagiati, no? Ma cosa gli hai preso? È una crisi! È una crisi! No, no, basta! Ho qui un calmante Benedettino! Lo volti! Calmante Benedettino! Benedettino! Archibiusoziale! Ce n'è rimasto un goccio! Volevo dire? Sì, messaggi! Chiaro! Lei non crederà a eminenza, ma quando poco fa ha esclamato a proposito degli scandali è sempre il migliore dei mondi, alleluia! Io tra me e me ho commentato, mi perdoni le riverette! Sì, sicuri! che si tramava per cercare di coprire gravi intrallazzi e scandali! L'anello è che cosa dici? Proferì la famosa frase! Sì! Nonimus ad velimus! Utque septi umne apti, sutequindi pepti daetere, tuss e gius, disindipro, l'alazzo ticotempo! Eminenza! Sateratio, tupopunfa, tesi di... Eminenza! Mi perdoni, ma sono stata bocciata tre volte in latino! Ah, e vuole delle ripetizioni? No, no, vorrei la traduzione! Deve traduzione! Grazie! Allora, dici la traduzione! Lo si voglia o non lo si voglia? Io giustizia e verità impongo! Benvenga lo scandalo! Non temiate che nello scandalo sia sommersa l'autorità dello Stato! Anzi, nello scandalo si erge sempre più solida l'autorità stata! Ma è straordinario! Le dispiace se prendo... Sì, non lo dico qua! Ma cosa fa? Ma stai sottimitratto il Presidente! Non sa che reato! Che cosa le pensa? Ma scrive certe cose! Va bene, posso essere anche d'accordo con lei su una sua certa mania di scrivere messaggi melodrammatici al popolo! Spese quando impreda fumi edilici! Ma arrivare a fare scempio del suo ritratto si vergogni! Dunque, in poche parole salta fuori che lo scandalo! Anche quando non c'è bisognerebbe inventarlo perché è un ottimo mezzo per scaricare le coscienze mantenendo il potere! Giusto! E la catarsi liberatoria di ogni tensione! E voi, giornalisti cosiddetti indipendenti, siete come dire i sacerdoti benemeriti! Sì, benemeriti! Non certo per il nostro governo che corre, smagna e va a tamponare ogni volta che noi si scopre uno scandalo! Romagna è il cuore tamponare, il nostro governo che mi permette di dirlo è borbonico e precapitalista! Ma lei guardi i governi del nord, degli stati del nord, veramente socialdemocratici evolute, avanzate! L'Inghilterra, lo scandalo profumo! Vi ricordate profumo, ministro della guerra? Addirittura coinvolto in un giro di prostitute, di droga e anche di spionaggio! Crollò in seguito a questo scandalo lo Stato, la Borsa e il... Niente, Stato, Borsa e anche il governo non furono mai così saldi! Sostenuti dall'opinione pubblica! Perché la gente diceva, per Dio, lo scandalo c'è ma ogni tanto il bombone scoppia! E che gioia viene a galla! Noi nel marcio ci nuotiamo e ogni tanto ci vediamo anche un pochettino di quel marcio ma nessuno ci viene a raccontare che era tè al limone! Questo è quello che conta! Ma sarebbe come dire che lo scandalo è il concime della socialdemocrazia! Sì, 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 è lo sterco concimante della socialdemocrazia, le dirò di più, è addirittura l'antidoto contro il peggiore dei veleni che l'ha preso di coscienza per la gente! Se la gente prende coscienza dopo è difficile muovere! Ma lei si ricorda, guardi l'America, l'America degli Stati Uniti che sono veramente socialdemocratici avanzati ma quando ci sono stati degli scandali enormi tipo quello del Vietnam quando si è scoperto delle stragi condotte dall'esercito americano nei villaggi massacri inutili, inauditi, ha messo censura, niente affatto televisione, cinema, hanno bombardato letteralmente l'opinione pubblica per giorni e giorni con immagini terrificanti, orripilanti! Questo perché? Perché un popolo che ha coscienza di sé ed è voluto socialdemocraticamente parlando non ha paura dello scandalo anzi, ha bisogno, ha bisogno dello scandalo perché lo scandalo crea rigurgito, crea indignazione nella popolazione la popolazione si indigna, si indigna, infamità, che schifezza, ma guarda che cosa! Ma come si può continuare così? Ma non è solo l'annaccio il rutto liberatorio! Perché lo scandalo è l'alcaseltzer della socialdemocrazia Ma che cos'è? Il Vangelo secondo ciò è l'hai? Quasi! Sulle mani! Addio! Spalle contro il muro! Sparo! Vai Bertotto, sei impazzito! Sulle mani ho detto! Non contradite! Ma anche lei, signor questore, vi avverto che non rispondo più di me! No, ovvio! Sia calmo lei, signor questore! E non si preoccupi! Tu! Appendili uno per uno all'attaccapanni! Non condarmi guardati con quelle facce! Sì! Fra poco capirete che questo era l'unico modo che mi rimaneva per farmi capire! Appendili! Ma anche io! Sì, anche lei! Sì, sì! Anche il signor questore! E anche te! E io? Anche io! Ma tu mi fai il piacere di dire, caro il mio Fregoli, chi sei veramente! Altrimenti, siccome mi hai scocciato, ti sparo nelle gengive, chiaro? Senti voi! Io racconto volentieri tutto quello che... Ecco, il mio... Scusi, ma non vorrei che non mi credessero! Raccontandolo così a voce arrivassero a non credere! Io lo vorresti cantare! No, io preferirei mostrare loro i miei documenti, il libretto clinico... D'accordo! E dove sono? Sono là nella borsa! Muoviti, fai a prendere! Lo posso prendere? Non fare passi falsi! No, 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 no! Sparo nelle gengive! No, no, eccolo qua! Piano! Eccolo qua! E qui, i documenti! Dai qui! E qui! E qui! Ecco, signori! Ecco! Guardare per credere! Passa! Un ex professore di disegno di disegno! Ma impossibile! Ero molto giovane! Lascia di là! Via qua! Ma gliel'ho aggiunto lui a mano! Non vede? Da Egitto in poi! Pure falsario, eh! Oltre che trasformista, mistificatore, simulatore! Ma io ti sbatto dentro! Per abusi e appropriazione di cariche sacre e civili! Niente da fare! È patentato! Socio... Ma accidenti! Avevo in mente un così bell'articolo! Me l'ha sfasciato tu! Nella mia borsa! Io giro sempre con un Lambert! Non si sa mai! E dentro la mia borsa c'era anche un registratore! Sul quale registratore io ho registrato tutti i vostri discorsi! Da quando sono entrato qui dentro! Eccolo qua! Che cosa intende farlo? Il registrato? Riverso! Riverso il nastro centinaia di volte! Lo mando dappertutto! Ai ministeri! Lo mando ai giornali! Lo mando ai partiti! Ai sindacati! Anche all'estero! Questa sarà una bomba! No! Lei non può fare una cosa simile! Lei sa benissimo che le nostre dichiarazioni sono state tutte falsate! Sì! Distorte! Dalle sue provocazioni di forzo giugno! E chi se ne prega! Sì! L'importante è che scoppi lo scandalo! Lo scandalo del secolo e finalmente per Dio l'Italia potrà diventare un popolo sia democratico avanzato! Io voglio vedere arrivare fra 18, 20 anni! Nel 1800, no, 1987, anche l'88! Per Dio scoppiare uno scandalo al giorno, all'ora, ministri, gente di direzione, industriali, gente incriminata, intangenti, giocate in furti, una schifezza! Tanto che sui giornali fanno più presto a fare l'elenco di tutti i ministri che quel giorno non hanno rubato! Perché finalmente allora si arriverà al punto che anche noi italiani potremmo gridare Per Dio siamo immersi nella merda fino al collo! Ma è per questo che camminiamo a testa alta! Allora! 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 Allora!